E allora, lei è accusato, come lei sa, dei reati di quegli articoli 416, 416 bis e 390 codice penale procurato in osservanza di pena. È stato interrogato alcune volte. È stato interrogato prima come teste, quelle che diamo per letti, in ogni caso poi sono anche richiamate nel corso degli interrogatori. Una prima volta, in data 17, no, in data 23 maggio 1984, come è iniziato. Il giudice Sottone informa che per mera comodità di ascolto il perito signor Maurizio San Marco ha provveduto a trasportare le telefonate maggiormente significative concernenti ai rapporti fra Salvo Antonino, Salvo Ignazio, Corleu Maria, Ignazio Lopresti, Giuseppe, Roberto, tra virgolette, Gaeta, Carmela, su un unico nastro magnetico in stretto ordine cronologico, ferme restando ovviamente le registrazioni già effettuate sui vari nastri magnetici regolarmente trascritte. Si precede quindi con l'ausilio del predetto perito all'ascolto di tale nastro. Terminato l'ascolto, l'indiziato dichiara, non avrei altro da aggiungere a quanto già riferito alla signoria vostra, sentito come teste. Tuttavia chiedo di poter riflettere ulteriormente perché finora, per quanti sforzi abbia fatto, non sono riuscito a ricostruire nella sua interezza quanto forma oggetto delle telefonate da mie ascoltate. Il difensore dell'indiziato si assogia alla richiesta di rinvio, adducendo anche impegni professionali. Il giudice truttore rinvia, confermamente al parere del Comunico Ministero, l'interrogatore dell'indiziato, andata da destinare. Poi in data 17 novembre 1984, lei è stata interrogata come imputata. Infatti è avvertito dalla facoltà di non rispondere e dichiaro che non intendo avvalermene. Insisto nel dichiarare che non conosco Tommaso Buscetti. Dichiaro altresì che non l'ho mai incontrato e di non aver mai saputo che lo stesso sarebbe stato ospite, come le signorie loro mi dicono, nella villa delle figlie di Nino Salvo, della figlia di Nino Salvo, verso la fine del 1980. In oro del pari, se mio cugino Nino abbia ceduto, nel 1980 o successivamente, la disponibilità della villa di sua figlia a Stefano Bontate. In oro se mio cugino Nino fosse amico di Stefano Bontate e se lo conoscesse. Quanto a me posso dire che nel guardare la fotografia del Bontate sui giornali, dopo la sua uccisione, mi è sembrato di vedere un viso vagamente familiare. Ma non so dire se lo abbia mai incontrato in qualche circostanza. In sostanza non posso dire se lo ha incontrato o meno in qualche occasione. Voglio aggiungere che dopo il sequestro del suo agero, mio cugino viveva in stato di soggezione, temendo ulteriori attacchi alla sua famiglia. Ignoro però se e a chi si sia rivolto per farsi proteggere. Domandato risponde, in effetti mio cugino mi ha riferito di aver pagato per il riscatto del suo agero la somma di circa 2 miliardi. Non mi ha detto altro e quindi ignoro con quale modalità abbia pagato e a chi il riscatto. Domandato risponde, le signorie loro mi chiedono se fosse notorio a Palermo che Stefano Bontate fosse un noto mafioso. E devo dire di sì. Circa le ulteriori domande in ordine ai personaggi da me incontrati o di cui comunque so la loro qualità di mafiosi, vorrei pregarvi di non porvi domande di questo tipo, poiché pur non temendo eventuali attentati alla mia persona, nutro profonda preoccupazione che possa essere fatta del male ai miei familiari. E devo protestare che per lunghissimi anni lo Stato è stato praticamente assente nella lotta alla mafia. Gli episodi di connivenza e di complicità sono tali e tanti che il cittadino indifeso è lasciato in balia delle organizzazioni mafiosi. Non ha potuto che tentare di sopravvivere evitando pericoli soprattutto ai propri familiari. Specie quando la propria attività imprenditoriale lo pone necessariamente in contatto con tali organizzazioni. Non sono mai stato mafioso, ma uno dei tanti imprenditori che per sopravvivere ha dovuto scendere a patti con i nemici della società. Domandato risponde. Le signorie loro mi fanno rilevare che Rino Salvo ha ammesso di avermi informato sei o sette mesi dopo che il fatto era accaduto di aver concesso la disponibilità della villa di sua figlia a Stefano Bontate. In effetti devo riconoscere che mio cugino mi ha informato di ciò esattamente nei termini di qui sopra. In precedenza ho negato il fatto perché volevo evitare di recare un danno a mio cugino. Anzi posso dire di averlo rimproverato, dire non c'è ma è saltato, rimproverato essendomi sembrato che si trattasse di una condotta estremamente imprudente e remissiva da parte sua. Domandato risponde. Ignoro se mio cugino avesse informato il geneto dottor Gaetano San Giorgi. Domandato risponde. Le signorie loro mi contestano che dalla dichiarazione di Tommaso Buscetta risulta che sia io sia mio cugino Nino ci siamo recati a trovarlo nella villa di Zagarella durante la sua permanenza evi. Escludo categoricamente che ciò sia vero e vi prego caldamente di interrogare nuovamente sul punto di Buscetta perché non può essere vero che egli affermi un fatto così distituito di fondamento. Domandato risponde. Le signorie loro mi contestano che secondo Tommaso Buscetta sia io che mio cugino saremmo uomini di onore, tra virgolette, della famiglia di Salemi. Respingo con un svegno tale addebito e chiamo a testimonianza tutto il mio passato di vita intemerata. Domandato risponde. Le signorie loro ancora una volta mi danno lettura delle intercettazioni telefoniche concernenti alla ricerca del telefono brasiliano di Tommaso Buscetta da parte di Ignazio Lopresti su incarico di Giuseppe, cugino di Nino. E se mi fanno rilevare che quel Giuseppe non posso che essere io, poiché lo stesso qualificandomi come Giuseppe, ho più volte telefonato a casa di Ignazio Lopresti chiedendo di quest'ultimo anche con Maria Corleo. Respingo tale ricostruzione dei fatti e faccio presente quanto segue. Avendo aiutato finanziariamente Ignazio Lopresti, che me ne aveva fatto prestanza e richiesta, concedendogli di scontare sul mio castelletto bancario presso il Banco di Sicilia effetti cambiari per circa 200 milioni, avevo aiutato. Il pagamento degli effetti scontati non avveniva regolarmente alle scadenze ed inoltre si erano accumulati interessi per circa 23 milioni, per cui io stesso decisi di convocare a Salemi Lopresti per esporgli la sua situazione debitoria ed invitarlo a rientrare. Questo è il motivo della telefonata, o meglio dell'incontro di quella telefonata tra me e Lopresti del 22 giugno 81 alle ore 9.40. Mi incontrai a Salemi con Lopresti da solo nella casa di campagna di mio nipote Paolo Puma ed in tale circostanza Lopresti mi disse che attendeva un assegno di importo tale con il quale avrebbe potuto pagarmi gli interessi più il residuo debito. Mi disse che se gli avessi telefonato l'indomani mi avrebbe dato una risposta al riguardo. L'indomani mattina telefonai a casa di Lopresti e gli chiese se aveva qualcosa, tra virgolette, cioè l'assegno di cui lui mi aveva parlato il giorno prima ed egli mi rispose che lo avrebbe avuto in serata. Ricordo benissimo che in questa telefonata Lopresti mi qualificò dottor Ignazio e mi sorprende pertanto che nella trascrizione della telefonata in questione Lopresti non risulta chiamarmi con tale appellativo. L'indomani mattina telefonai e mi rispose Maria Corleo. Io in quel momento ritenne di non palesarmi con il mio vero nome ma con quello di Giuseppe perché avevo appreso che Lopresti era stato arrestato e pensando che il telefono potesse essere controllato ritene di usare tale spediente per evitare di essere individuato e di dover dare quindi spiegazioni su miei rapporti con Ignazio Lopresti che avrebbero potuto non essere credute. A questo punto, stante l'ora tarda, il presente interrogatorio verrà rinviato a data da destinarsi. Sono le ore 18.55. C'è un altro interrogatorio, piuttosto breve, del 5 dicembre 1984. La signoria vostra mi contesta che degli atti acquisiti risulta che nel 1965 i carabinieri di Salemi mi hanno definito mafioso e figlio di mafioso. Contesto recisamente. L'accusa. Faccio presente che fino al 1964 io ho avuto regolarmente il porto d'arma lunga e che quando mi è stato riferito il rigetto della mia istanza di rinnovo non mi è stato comunicato che il motivo era quello concernente alla mia presunta qualità di mafioso. Bensì si riferiva ad una denuncia per caccia in tempo di divieto solo all'alto della proposta per misura di prevenzione ho appreso quanto sopra con mia maraviglia e disappunto. Faccio presente che il brigadiere che stilo il rapporto con i suddetti apprezzamenti dei miei confronti peraltro da lui attribuiti solo a voce pubblica, tra virgolette aveva avuto nel passato uno screzio con me perché aveva chiesto l'assunzione dell'esattoria di una sua raccomandata. A tale assunzione non ho potuto aderire. A questo punto l'imputato chiede un rinvio dell'integnatorio perché non si sente in condizioni psichiche favorevoli. Il polimio ministero e il dipensore aderiscono alla richiesta. Il giudice truttore rinvia al 18 dicembre 84 ore 16. Poi questo interrogatorio non è stato più fatto dal 18 dicembre 84 ore 16. È vero, non è stato più fatto. Quindi era per avere la sicurezza che non ce ne fossero altri. Comunque lei conferma il contenuto di queste interrogatorie? Le confermo, signor Presidente. Si avvicina un pochino il microfono. Dica confermo microfono. Sì, vuol ripetere per favore? Confermo. Dunque lei sa che queste accuse prendono le mosse in buona parte dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta. Queste accuse, queste dichiarazioni, in parte anche queste accuse, le sono state contestate in istruttoria. Però non risulta che le abbiano dato lettura nelle dichiarazioni. Presidente, io di queste accuse conosco semplicemente quello che è scritto negli interrogatori. Ho potuto dare solo queste cose. Nell'interrogatorio e nell'ordinanza? Nella lettura dell'ordinanza ho visto che a mio carico, il giudice istruttore, ha avanzato una serie di sospetti e di accuse. E se lei me lo consente, desideravo dimostrare, possibilmente con prove documentali, ovvero possibile, possibile e con elementi chiarificatori, l'assoluta impondatezza di tutte queste accuse e di questi sospetti. Ma me l'interrogatorio... Per me lo consente di poter consultare degli appunti e dei documenti. Ma bene, senza altro l'autorità ha consultato degli appunti. Intanto, io volevo dare lettura di quello che ha detto Buscetta, che ha parlato di lei e di suo cugino per due volte. Una prima volta sono le dichiarazioni rese da Buscetta in uno dei suoi tanti interrogatori. E ha dichiarato così. I cugini Ignazio e Nino Salvo sono uomini d'onore, tra virgolette, della famiglia di Salemi. E come tali mi sono stati presentati da Stefano Bontate, quando sono arrivato a Palermo nel 1980. L'amicizia per bontate di Salvo era saldissima ed ho potuto notare che si frequentavano regolarmente. Come riflesso di tale amicizia, conoscevano anche Salvatore Inserillo. Il ruolo dei Salvo in Cosa Nostra è modesto, mentre è grandissima la loro rilevanza politica, poiché mi risultano loro rapporti diretti con notissimi parlamentari, alcuni dei quali di origine palermitana, di cui mi riservo di fare i nomi. La loro ricchezza non previene da traffico ai stupefacenti, in cui non sono in alcun modo coinvolti, ma soprattutto dai loro rapporti politici. Non sono affatto dei sanguinari, né sono coinvolti per loro iniziativa nelle attuali vicende di mafia. Anzi, sia Stefano Bontate, sia Gaetano Badalamenti mi hanno detto che i Salvo hanno dovuto subire, per la loro ricchezza, sopprusi e angherie di ogni genere, da cui il sequestro del suo giro di Nino Salvo, cui erano coinvolti Pino Greco, Scarpuzzedda e Totorriina, secondo il giudizio di Stefano Bontate e di Gaetano Badalamenti. Ignoro se i Salvo ne fossero a conoscenza e comunque non ho mai parlato con essi di tale vicenda. Con Nino Salvo mi sono incontrato anche a Roma. Ricordo che il Salvo doveva essere interrogato da un giudice della capitale e trovandomi anche a Roma, ospite di Pippo Calò, lo incontrai solo per salutarlo e per rivedere un parlamentare che non vedevo da parecchio tempo. Mi riservo di indicare il luogo dell'incontro che credo sia stato la hall di un albergo. L'incontro, se mal non ricordo, avvenne nell'estate del 1980, forse a settembre. E poi il resto non riguarda. Soltanto poi un altro punto dice, comunque, verso la fine del 1980, in occasione delle feste natalizie, ho alloggiato continuativamente nella villa dei Salvo. Faccio presente che sia Ignazio Salvo venivano a trovarmi in villa, ma che quando vi ero io nessun altro abitava le altre due ville. Io vi alloggiavo con moglie e figli. Ha fatto questo riferimento anche a lei. Lei ha negato di conoscere Buscetta? E da signor Presidente, negli interrogatori resi da Buscetta sia al giudice istruttore sia davanti a questa Corte, sostanzialmente mi vengono rivolte tre accuse. La prima è questa. Ricordo che mi sono stati presentati come uomo e donori da Stefano Pontano, appartenenti alla famiglia del Paese di provenienza Salemi, credo, e quindi non della provincia di Palermo. La seconda, di aver appreso da Stefano Pontate che Martellucci, mercera intermediazione dei Salvo, aveva accettato che Ciancipino gestisse il risanamento dei mandamenti di Palermo. La terza, faccio presente che sia Nino sia Ignazio Salvo venivano a trovarmi in villa, di aver usufruito della villa di Zaccarella soltanto per le feste natalizie, con la mia famiglia, dal 20 o 21 dicembre al 2 gennaio. Comunque le tre accuse, quelle che trovano riscontro... Sono le accuse che lui mi ha fatto sostanzialmente riepilocate, sia per quello che... Si trovano riscontro processuale nelle imputazioni, la prima è la terza, non la seconda, perché... Per la verità, Presidente, c'è dell'altro. Sì, c'è dell'altro. Il quadro a cui stiamo... Che ha detto Bucetta, beh, io adesso... Il certo riferimento sono le dichiarazioni di Bucetta. Dalle dichiarazioni di Bucetta c'è un'altra circostanza, se vuole la posso ricordare alla Corte che questo quadro è completo. Ora, man mano che procediamo... Come che... Qua è l'imputato che... La seconda accusa Bucetta, signor Presidente, l'ha formulato davanti a questa Corte. Questa, secondo cui, io sarei stato... Intermediario per... Comunque, non trova espressione in una imputazione, questo le volevo far presente. Come del resto, i suoi difensori... Ora, sulla prima accusa, certamente, signor Presidente, non posso non documentare nulla. Io respingo costegno e una calunnia, alla quale posso solo contrapporre... Senta, io desideravo che lei, però, rispondesse alla mia domanda. Lei ha dichiarato di non conoscere Bucetta. Sì, signor Presidente. Insiste in questo. Insiste in questo e lo sto documentando. Allora, io debbo, però, farle presente che nella seconda, quando alla Bucetta fu contestato queste vostre dichiarazioni, sia sue che di suo cugino, nelle quali si vuoi dichiarare di non conoscerlo, il Bucetta, prese atto di queste dichiarazioni, aggiunse qualche particolare. Uno di questi riguarda lei, che, se non ricordo male, anzi, se lo ricordo molto bene, lei ha anche negato di conoscere Bontate, Stefano Bontate, e ha detto, nell'interrogatorio, mi pare che dalla fotografia si tratta di un viso che mi è in certo qual modo noto, però io non l'ho mai conosciuto, Stefano Bontate. Sapevo che si trattava di una persona che veniva additata come esponente della mafia, ma, insomma, non l'ho mai conosciuto. Invece Bucetta ha aggiunto che lei sarebbe andato a pranzo nella campagna di Bontate, in una, mi pare, della campagna di Bontate, e anzi avrebbe scherzato sul fatto che, poiché per imbandire la tavola si erano adoperati due tavoli accostati e quindi veniva fuori una tavola nella sua unità sconnessa, e aveva proposto di comprare un tavolo nuovo a Bontate, che certo non ne aveva bisogno. Certamente questo fatto, signor Presidente, anche così come è formulato da Bucetta, a me sembra risibile, non credo che a quell'epoca il cittadino Ignazio Salvo potesse ridicolizzare Stefano Bontate, dicendo che gli doveva offrire un tavolo. Io riconvermo in questa sede che non conosco Stefano Bontate, non gli sono stato mai amico e non sono stato mai a casa di Stefano Bontate. Peraltro, devo dire, per quello che può essere utile, questa vicenda del tavolo sembra molto strana, perché nell'ordinanza di ripia a giudizio, in una parte riguardante un'informativa della polizia o dei carabinieri che sono state sul posto, cioè nella casa di Stefano Bontanti Campagna, nella casa, cioè, secondo cui, secondo Bucetta, io sarei stato ospite, hanno trovato un tavolo grande con dei tavolini. Non so se Bucetta gliel'ha regalato lui il tavolo, ma certamente io no. E quindi questa notizia delle tavole, fra l'altro, è smentito nella stessa ordinanza. Ma devo prescindere da questo. Devo dire che io non conosco Stefano Bontate e non sono stato mai a casa di Stefano Bontanti. Comunque, per quanto riguarda la precisazione di quello che io l'avevo detto poco fa, io non so se sono stato chiaro, ma comunque ha detto che era inteso come una battuta di spirito, non certamente come un proposito di regalare, di portare vasi a Samo o nottola d'Atene, insomma. Non l'avevo, non è un problema che conosco. E' un particolare che il Buscetta ha aggiunto una volta... E' un particolare particolare specialmente quando sa e rinquadra in un tempo in cui non è smentibile. Per fortuna ci ha detto al mio carico altri particolari che spero di poter smentire con prove documentali. Ha detto anche come io l'ho ricordato che sia lei che il suo cugino siete andati a visitarlo nella villa di... del San... del Zagarella. Esatto, signor Presidente. se lei mi permette a questo punto aggiungere qualche cosa mi pare che sia il momento... Il Ministero voleva richiamare quanto poi ha fatto il Presidente cioè a dire per ricordare che c'era questa ulteriore circostanza c'era questa del Davonino Ah vabbè l'ha ritratto io infatti aspettavo la risposta alla prima domanda. C'è una circostanza riferita a Buscetta. Se si non va a spiegare il concreto a sospettare. Certo, no. Io stavo semplicemente avviando il discorso con qualche domanda e poi naturalmente potremmo interloquire sia a tutte le parti ovviamente Pubblici Ministeri Parti Civili e l'Avvocato di Defensa e soprattutto l'imputato che si deve difendere. Dunque, allora diciamo per la prima lei ribadisce di non aver conosciuto la seconda accusa una telegrafica affermazione anzi una secca spendita io in altra epoca sarei stato onorato di conoscere l'Avvocato Martellucci oggi non averlo conosciuto è per me una fortuna e per Buscetta certamente l'acquisizione della patente di bugiata io signor Presidente non conosco Martellucci non ho avuto mai con Martellucci alcun rapporto non l'ho mai sollecitato per problemi del comune di Palermo e non ho sollecitato mai Martellucci e non ho sollecitato mai altri politici per problemi di questo comune perché sono stato sempre estraneo a tutte le vicende di questo comune poi c'è la terza accusa di Buscetta che è l'accusa spettacola le visite mie e di mio cugino nella villa di Zaccarella a lui e alla sua famiglia anche in questo caso nessun commento solo i fatti la famiglia Buscetta è arrivata a Milano proveniente da Parigi il giorno 22 dicembre del 1980 alle 15.40 e quindi non può essere arrivato a Palermo prima della sera del 22 ciò risulta chiaramente dagli atti del processo nella carpetta numero 91 volume 181 foglio 40 c'è un'informativa del nucleo regionale di polizia tributaria della guardia di finanza di Palermo indirizzata al tribunale civile penale ufficio istruzione nella quale tra l'altro si legge il comando nucleo regionale della polizia della guardia di finanza di Milano incaricato degli accertamenti riferito riferito quanto segue presso l'aeroporto della suddetta località è stato possibile accertare che a porto dell'aereo mister 20 giunta all'inata alle ore 15.40 del 22 12 1980 proveniente da Parigi con destinazione Palermo vi erano le seguente persone Buscetta Benedetto De Almeida Maria Cristina De Almeida Omero De Giumara S. Tommaso Girotti Brigida Girotti Lisa Tavolato Tullio Buscetta afferma che la sua famiglia è partita da Palermo il 2 gennaio io non so se questa affermazione risponda al vero ma certamente la sua famiglia è partita da Roma il 4 gennaio non sono riuscito a trovare tra le carte del processo l'informativa della polizia che questo afferma ma dalla lettura dell'interrogatorio reso dal dottore Gaeta l'11 ottobre del 1984 questo si vince chiaramente perché viene affermato dal giudice istruttore a domanda risponde la signora vostra mi contesta che Maria Cristina Giumara esse moglie di Tommaso Buscetta come risulta indiscutibilmente provato è partita per Rio de Janeiro da Roma il 4 gennaio 1981 in conclusione io sarei andato a trovare ripetutamente infatti Buscetta usse il termine venivano quasi a indichare una rispettosa familiarità nei suoi confronti nel periodo che va dal 22 dicembre del 1980 al 3 gennaio del 1981 e in queste visite avrei avuto l'onore di conoscere la sua famiglia in verità io signor presidente dal 21 dicembre del 1980 al 10 gennaio del 1981 sono stato all'estero con tutta la mia famiglia infatti assieme ai miei familiari io partivo per Milano il giorno 21 dicembre alle ore 7.55 con il volo all'Italia a Z133 il biglietto a me intestato portava il numero 91 03 47 88 56 quello di mia figlia Maria il numero 91 03 47 88 59 quello di mio figlio Luigi il numero 91 03 47 88 66 ma anche il numero del biglietto di mia moglie perché ho perduto la fotocopia proseguivo in treno da Milano per l'estero raggiungendo la villa di miei amici a Presle dove mi fermavo assieme ai miei familiari fino al 25 12 del 1980 le persone che mi hanno ospitato mi hanno dichiarato la loro disponibilità a venire a testimoniare davanti a questa corte e io chiederò alla corte che vengano ammessa a testimoniare il 26 12 del 1980 raggiungevo la stazione sciistica di Villare sempre all'estero dove mi fermavo fino al 10 gennaio del 1981 presenterò la fotocopia della nota dell'albergo dove sono rimasto ospite con la mia famiglia fino al 10 gennaio 1961 sono rientrato da Ginevra assieme alla mia famiglia il 10 gennaio 1981 con il voto AZ 409 il mio biglietto aveva il numero 055 32 55 81 99 04 quello di mia figlia Maria il numero 055 32 51 55 81 99 05 quello di mio figlio Luigi 055 32 55 81 99 06 quello di mia moglie il numero 055 32 55 81 99 07 la dichiarazione all'Italia che presenterò confermerà quanto ho detto sia per il volo del 21 dicembre Palermo Milano sia per il volo 10 1 1981 Ginevra Roma presenterò le fotocopie di tutti i biglietti di aereo cioè sia quelli Palermo Milano sia quelli Ginevra Roma chiederò alla Corte che sia la messa a testimoniare le mie collaboratrice domestiche e il mio autista tutti i cittadini stranieri che durante la mia assenza hanno custodito la mia abitazione le circostanze che ho documentato chiariscono come obiettivamente io non abbia potuto mai rendere queste visite al signor Buscetta nella villa di Zagarello ma ancora voglio riaffermare di non averlo mai conosciuto e di non averlo mai incontrato senta mi vorrei ripetere per favore allora lei da 21 dicembre se lei mi permette le do anche la documentazione si va beh adesso poi la presenterà in cancelleria i suoi difensori dunque dal 21 dicembre ma al 10 gennaio però 21 dicembre è andato a Milano a Milano ho preso il treno e ho proseguito per preserle dove mi sono fermato dal 21 sera al 26 mattina sempre all'estero ho passato il Natale in casa di amici e poi dal 26 mattina al 10 di gennaio sono stato ospite in un albergo di Villarri in Svizzera assieme a tutta la mia famiglia sono rientrato con la mia famiglia il 10 gennaio da Ginevra di tutto questo ho provato documentale un albergo di Ginevra hotel du Park du Park non Ginevra un albergo di hotel du Park di Villar 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 lei quando ti è avvenuto all'opresti perché si è qualificato come Giuseppe all'ingegnere Lopresti signor presidente se lei mi consente vorrei che ride prima di parlare di queste telefonate di quelli che erano i miei rapporti con l'ingegnere Lopresti io io avevo prestato all'ingegnere Lopresti delle somme di denaro sia facendogli delle anticipazioni sia effettuando dell'operazione di sconto a suo favore Nel marzo limitato a 200 milioni ciò comportava per il Lopresti il pagamento di 20 milioni circa più il pagamento degli interessi per l'operazione di sconto che andavamo a porre in esso Lopresti in quella circostanza mi fu molto grato si impegnò a versare i 20 milioni e gli interessi di sconto non appena l'istituto bancario nella fattispecie il Banco di Sicilia me ne avesse dato comunicazione purtroppo Lopresti non effettuò il primo versamento né il secondo ammontante a 22 milioni 883 mila 280 come risulta dalla comunicazione del Banco di Sicilia pervenutami nei primi di giugno il 21 giugno io incontrai Lopresti a Salerno in quella circostanza il 22 mattina io chiamai il Lopresti e chiesi hai qualche cosa Lopresti mi disse che qualche cosa l'avrebbe avuto la sera così con contarmino di sentire il giorno 23 il pomeriggio del 22 Lopresti veniva arrestato ed io sia per i rapporti che avevo con lui sia perché ero interessato alla riscossione del mio credito la mattina del 23 gli telefonai per avere notizie ma supponendo che subito dopo il suo arresto il suo telefono fosse posto sotto controllo e non desiderando immischiare il mio nome in vicende giudiziarie che certamente non mi riguardavano iniziai la telefonata dicendo sono Giuseppe come avrei potuto usare qualunque altro nome cioè nascosi la mia identità cosa che va chiarito signor Presidente comportamento che non avevo ottenuto mai prima fino a poche ore prima dell'arresto dell'Opresta perché fino a poche ore prima dell'arresto dell'Opresta e il giorno prima sono il dottore Ignazio o Ignazio quando il 22 26 1981 io chiamo il Lopresti certamente mi aspetto che egli abbia riscosso una somma di denaro e che me ne ria conferma non starò qui ad elencare gli elementi logici che possono portare a conclusione ben diverse da quelle enunciate nell'ordinanza del rinvio giudizio perché certamente meglio di me lo faranno i miei vocali e credo che non sia nelle mie facoltà meno che Vossignoria non me lo voglia consentire però devo fare presente che a pagina 6.857 l'ufficio istruzione a commento di questa telefonata chiarisco della telefonata tra l'ingegnere Lopresti e il dottore Caetta non è mia la telefonata così così conclude Giuseppe è sicuramente Ignazio Salvo il quale usava questo nome falso evidentemente per femonirsi in caso di intercettazione telefono ma com'è possibile creare questo equivoco non sono io che telefono all'ingegnere Lopresti cioè non sono io che telefono al dottore Caetta e l'ingegnere Lopresti il quale non ha alcun interesse a nascondere il mio nome perché se avesse avuto interesse a nascondere a qualche cosa avrebbe nascosto le sue cose però Lopresti dice ora invece sia Nino che il suo cugino Giuseppe hai capito rivolto al Gaeta il Lopresti sapeva che lei si chiamava no signor Presidente il Lopresti fino a poche ore dell'arresto mi aveva chiamato dottore Ignazio e quindi non vedo il perché doveva chiamare me dottore Ignazio a telefono mentre parlando con Lopresti con Gaeta il quale peraltro mi aveva incontrato solo una volta mi doveva indicare col nome di Giuseppe c'è da dire come avrebbe potuto Gaeta capire che quel Giuseppe era Ignazio Salvo considerato che Gaeta mi aveva incontrato solo una volta e soprattutto come avrebbe potuto capirlo Buscetta al quale il Gaeta doveva riferire ed avere dato il numero di telefono a Nino e a Giuseppe però diceva Nino e suo cugino no ma diceva Nino e Giuseppe no Nino e suo cugino e suo cugino Giuseppe se lei non mi ascolta quando io io dico ora invece sia Nino che suo cugino Giuseppe hai capito questa è la frase dell'Obrezio però io volevo chiedere un'altra cosa la signora Maria Corleo moglie dell'ingegnere L'Obrezio come ha fatto a capire che era lei come ha fatto insomma la voce mia la voce mia era una voce familiare a quello della signora Maria Corleo infatti la signora Maria Corleo signor Presidente come si leggere come mai non le disse ma tu sei Innazio non sei Giuseppe questa è una domanda mi scuso signor Presidente ma qua io non posso rispondere però voglio precisare signor Presidente che nella dichiarazione resa dalla signora Maria Corleo la signora dice con mia grande sorpresa si qualificò Giuseppe il che sta a testimoniare che mai o prima mi ero qualificato Giuseppe e che lei certamente non sapeva che io mi potesse qualificare Giuseppe la verità è signor Presidente che con la forzatura di ogni logica e soprattutto con delle supposizioni infondate si è voluta arrivare alla conclusione che per Giuseppe della telefonata sia ben chiaro Presidente tra caete lo preste io non centro doveva essere Ignazio Salvo con la convinzione evidentemente che qualunque supposizione anche la più infondata perché diventi verità basta che la si ripeta con insistenza e che soprattutto la ripeta la stampa ma io riaffermo in questa serie io sono il Giuseppe della telefonata all'ingegnere Lopresti che postuma alla telefonata dell'ingegnere Lopresti col dottore Gaeta mi sono chiamato sempre l'altra telefonata del 22 giugno 1981 delle 9.40 che l'è stata pure contestata all'istruttoria se mi hanno un ricordo del 22 giugno 1981 delle 9.40 non c'è nessuna mia telefonata o forse 7.40 7.40 la telefonata in cui io chiedo hai qualche cosa e la telefonata delle 7 io fino alla sera prima sono il dottor Ignazio per Lopresti la mattina chiamo sono Ignazio e chiedo hai qualche cosa in questa telefonata che lei può anche non ricordare e che io le leggo ci sarebbe intercettata naturalmente si dice così uomo pronto Ignazio Lopresti che sì l'altro dice Ignazio l'altro risponde sì scusami non ti avevo riconosciuto hai capito chi sono? no siccome lei parlava poco fa del dottore Ignazio qua in questa telefonata si parla del dottore Ignazio ecco perché gliela sto rileggendo poi dice il tuo omonimo la risposta è che ambedue vi chiamate Ignazio ah sta bene Rica dottore Ignazio come siamo qua scompare questo dottore Ignazio come lei ha fatto riperemito a un dottore Ignazio si è una telefonata del 22 questa è del 22 giugno si dalle 9 ore e 40 lo dicevo anche perché lei poco fa dicendo io mi sono l'ho chiamato dottore Ignazio ma come mai lei non l'aveva riconosciuto a chi? a Ignazio Lopresti ma signor Presidente dicono tutto può capitare al pronto non sempre si riconosce no non è solo il pronto dice pronto sì Ignazio sì scusami ha detto due sì l'ingegnere Lopresti c'era questo momento no perché poi un momento dice sì hai capito chi sono no forse io non è l'ingegnere Lopresti che non ha capito chi sono non sono io e io le dico sono il tuo omonimo e lui mi dice e come mai allora le dico che l'ingegnere Lopresti non aveva capito chi era lei dato che insomma eravate familiare ma signor Presidente non mi aveva riconosciuto dalla voce dico io e questo non credo che mi si possa amare una colpa no no non è questo io le sto facendo delle osservazioni siccome lei giustamente mi ha detto Maria Corleo mi ha riconosciuto dalla voce su un viso anche se io mi ero qualificato Giuseppe poi insomma l'altra parte intanto Ignazio Lopresti non la riconosce mi sembrava un elemento da chiarire evidentemente è stato un momento in cui non perché tanto che lei ha insistito il tuo omonimo quindi rimane fermo Presidente visto che si corre il rischio con la lettura dell'intercettazione di attribuire a una persona quello che invece dice il suo interlocutore in questa telefonata la la dizione dottore Ignazio viene pronunziata da Lopresti non dall'imputato ecco da Lopresti esatto è al contrario l'imputato mi chiama dottore Ignazio siccome poco fa lei l'imputato mi chiama dottore Ignazio dottore Ignazio siccome era lei Lopresti mi chiama dottore Ignazio mentre poco fa lei aveva detto dice io mi meraviglio e l'ha detto anche l'istruttoria che in quella telefonata dice perché io ricordo di averlo chiamato dottore Ignazio era lui che aveva chiamato dottore Ignazio a lei quindi potrebbe anche essere un ricordo non preciso che si corregge in questa maniera lui mi aveva chiamato dottore Ignazio e gli aveva detto che era il tuo omonimo senta lei poi deve fare specifiche contestazioni io se lei permette desideravo fare delle dichiarazioni noi siamo qui per ascoltarli l'ordinanza di rinvia giudizio per poter accreditare le dichiarazioni di Buscetta a mio carico avanza nei miei riguardi una serie di sospetti riguardanti un mio presunto condizionamento della vita politica e amministrativa della regione siciliana di questi sospetti signor Presidente desidero dimostrare con sufficiente documentazione l'assoluta infondatezza viene citato il rapporto della Chiesa del 22 marzo del 1971 che parla di profitti delle sattorie gestite dai salvo per larghe tolleranze sui tempi di versamento dei capitoli riscossi con ovvio conseguente profitto di rilevanti interessi e nello stesso rapporto si chiede che venga disposta una rigorosa inchiesta all'ufficio istruzione non risulta che quando allora segnalato nel rapporto di polizia abbia avuto effetti di risilievo e in realtà è così ma non perché lo Stato è rimasto inerte o benevolo nei miei confronti ma perché le ispezioni e le verifiche disposte ed attuate non hanno mai riscontrato alcuni illeciti e voglia la Corte richiede al comando della Guardia di Finanza o all'ufficio che riterrà opportuno la relazione sulla società SACAP redatta dalla sezione speciale del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo la relazione è stata redatta in seguito alla ispezione iniziata il 12-10-1971 su richiesta della Commissione Antimafia in seguito alla informativa della Chiesa del 21 marzo 1971 agli atti dell'antimafia elenco documenti la relazione è il numero 806 ed è così indicata il rapporto sulla SACAP di Palermo trasmesso dalla Guardia di Finanza di Palermo il 22 dicembre 1971 questa verifica e le successive di cui darò notizia hanno confermato come quanto contenuto nel rapporto di polizia congida solo con notizie giornalistiche prive di ogni riscontro e valga ad esempio questa decantata storia delle tolleranze concesse alle società che gestivano le sattorie in Sicilia e fra queste la SACAP e la SATRIS che sono le due società alle quali io sono interessato l'onorevole Mannino nella sua deposizione del 23 febbraio 1985 citata dall'ordinanza come fonte di prova di un processo di condizionamento della vita politica della regione da parte mia parla di tolleranze e dice scese da oltre un miliardo di lire settembre 1967 a circa 400 milioni nel marzo 1972 e in quest'ultimo periodo non vi erano più tolleranze riguardanti il gruppo Salvo Cambria a parte la circostanza che ove mai e così non è le società che gestivano le sattorie in Sicilia la SACAP la SARI la SATRIS se la SIGERT avessero nel 1967 tolleranze per poco più di un miliardo non si vede quale esricchimento io potessi ricavare gli interessi bancari su questa somma avrebbero dato a quell'epoca un utile di 40-50 milioni l'anno da dividere tra le quattro società su cui bisognava pagare le imposte ed io solo di due di queste società ero socio con una partecipazione azionaria del 10% nella sostanza avrei condizionato i poteri della regione per ricavar non utile di alcune centinaia di migliaia di lire l'anno ma conferma della rettitudine efficienza ed alta professionalità di gestione della società SACAP che tra l'altro fino al 1973 ha gestito le sattorie di Palermo nel 1973 la SACAP non ha più operato perché è stata incorporata nella Satris e l'altra sattoria alla quale sono interessato voglia la Corte ad ascoltare quanto è scritto nella relazione redatta in seguito alla verifica disposta dal Ministero delle Finanze in data 23 marzo 1973 e particolarmente le conclusioni che sono riportate a pagina 33 e 34 che sono la migliore risposta all'illazione dell'ordinanza e ai sospetti del rapporto di polizia considerato inoltre dice la relazione la conseguita meccanizzazione integrale della meccanizzazione dei servizi esattoriali che ha consentito la completa automazione delle procedure di lavoro in real time col sistema teleprocessing di sportello con l'elaboratore elettronico IBM 370 la SACAP si è posta all'avanguardia della tecnica e dello sviluppo meccanocratico degli elaboratori elettronici applicati nel settore della riscossione delle imposte dirette e rappresenta uno dei più moderni ed avanzati complessi di gestione esattoriale operante in Italia l'esattore SACAP quindi ha messo a disposizione del pubblico un sistema di riscossione efficiente sicuro rapido che garantisce in pieno il cittadino contribuente nell'assolvimento dei suoi doveri e nel riconoscimento dei suoi diritti il sistema inoltre garantisce in pieno gli interessi dell'erario e dei vari enti inquisitori che vengono collaborati ed agevolati in tutte le varie fasi della compilazione dei ruoli e della relativa riscossione dei tributi dei quali l'esattore effetto ai versamenti allo scadere delle prescritte errate con assoluta percezione e puntualità Comunque io le ho ricordato e credo che i suoi difensori siano d'accordo che le imputazioni sono quelle che lei sa questo è tutta una faccenda che sta un po' come cornice naturalmente io non voglio impedirlo se lei mi dice che tutto questo è come se non esiste io tutte le carte mi metto a sua disposizione forse io non sono riuscito io voglio dire che noi abbiamo il dovere di procedere per determinati reati e ne abbiamo anche fin troppi per cui procedere per cui in sostanza la sua difesa deve essere orientata soprattutto su quelle che costituiscono le imputazioni naturalmente lei può produrre tutti i documenti che vuole come cornice anziché leggerli in udienza non so se sono stato chiaro forse no voglio dire lei si può difendere si deve difendere soprattutto per quanto riguarda le imputazioni di carattere penale che lei ha signor Presidente allora io ho risposto alle dichiarazioni di Buscetto con la mia verità poi sono a disposizione della Corte che ci terranno opportuno di chiedere il contorno diciamo tutto quello che cornice io mi rendo conto che lei abbia anche interesse no signor Presidente siccome non c'è una sola verità e devo dire che la superficialità con la quale è stata redatta questa relazione la mancanza di ogni riscontro l'assoluta ignoranza di atti documentali e parlamentari hanno permesso di creare un castello mi sia consentito di dire di infamia al mio carico che non ha alcuna rispondenza né con la mia vita né con il mio operato né con la mia formazione morale comunque questo quindi è sufficiente poi lei può produrre tutta la documentazione l'avvocato Seminara vuole parlare mi scusi se mi dai ecco sì già alla linea è soltanto per spiegare dica per favore Seminara sono l'avvocato Paolo Seminara è soltanto per spiegare che nella fase degli atti preliminari al dibattimento la difesa in una sua posizione a discolpa ha richiesto l'acquisizione di questa documentazione sicché il contributo che vuol dare l'imputato in questa sede può essere recepito dalla Corte acquisendo quella documentazione acquisendo è quello che io volevo perciò mi pare che si possa ovviare io questo ho cercato di dire per appesantire l'interrogatorio con fatti che non sono pertinenti alle imputazioni infatti condividiamo la sua obiezione suo Presidente e abbiamo aggiunto questo perché fosse chiaro la posizione Presidente io senza voler entrare per chiarire il tema della contestazione senza voler entrare assolutamente in questa sede in questo momento nel merito di quanto ha osservato l'imputato circa il contenuto dell'ordinanza per la parte concernente il tema che stava trattando desideria precisare come pubblico ministerio che tutto questo discorso sulle esattorie e tutto quanto può sembrare di contorno viene ritenuto dall'accusa invece avere un peso specifico anche se non sono fatti attribuibili a fonti di accusa individuabili fisicamente o in altra maniera ma è tuttavia e tengo a ribadirlo sarà anche sbagliata la nostra posizione comunque questa che è un quadro che si completa anche con queste circostanze che poi dimostrerà non essere esatte evidentemente questo rientra nella normale dialettica processuale ma fanno parte anche questo della dialettica allora allarghiamo il tempo in sostanza semmai sotto il 416 bis potrebbe lato mi chiedo mi chiedo sotto il 416 sì però qui c'era una posizione dell'imputato che contestava dei particolari specifici in relazione alla relazione cioè che concerneva la relazione Vannino che è citata nell'ordinanza e quindi una più che fatti veri e propri che potrebbero rientrare nella fattispecie ex articolo 416 bis me ne è sembrato che si divagasse su altri temi comunque io non possiamo se noi possiamo ritirare tutti quelli che ho fatto a disposizione del pubblico ministero io intanto volevo allora non diamo dei limiti all'imputato nelle sue difese perché dobbiamo allargare il tema di indagini fermo restando comunque se l'imputato ha la possibilità di fornire documentalmente le sue riscolte probabilmente anche più conducente mi collego a quello che diceva l'avvocato però dico questo tema per quello che riguarda il mio ruolo in questo processo cioè di rappresentante pubblico ministero è un tema che ha un'attinenza da un mio punto di vista precisa con l'imputazione in particolare di quello dell'articolo sempre come cornice sempre come cornice sempre come cornice allora io volevo chiederle una cosa suo cugino Nino signor Presidente mi scusi se me interrompo devo allora continuare a difesa di queste cose o no ora lei magari eventualmente può continuare la sua esposizione tanto volevo chiederle qualche cosa suo cugino Nino era primo cugino sì cioè figlio di una di un fratello di mio padre di un fratello di suo padre suo cugino Nino aveva altri cugini che si chiamavano Giuseppe credo di no non lo so sì era una domanda così che io volevo fare allora pure continui sotto questo profilo dice la relazione continua la relazione la verifica cioè pertanto dopo quanto accertato e constatato lo scrivente ritiene giusto di dare lodevole atto all'esattore Sacan della regolarità di tutta la gestione esattoriale e di rivolgere un meritevole applauso per avere saputo creare il più attrezzato e moderno complesso meccanografico operante in Italia nel settore della riscossione delle imposte dirette e per la fattiva collaborazione data all'amministrazione finanziaria la quale nell'immenenza dell'entrata in vigore della riforma tributaria deve poter porre fiducia per una valida collaborazione a sistemi di riscossione di avanzatissima tecnica fin qui la relazione l'ordinanza sostiene Ignazio Salvo e il cugino Salvo Antonino furono sostenitori del governo Milazio l'affermazione è infondata ed è priva di ogni riscontro ed è sventita da tutte le informative di polizia di carabinieri che mai parlano di questa vicinanza politica o di questo sodalizio tra i cugini Salvo e il governo Milazio mentre al contrario evidenziano l'impegno politico da me svolto in favore della democrazia cristiana peraltro io all'epoca in cui il governo Milazio operava in Sicilia ero un componente del comitato provinciale della democrazia cristiana di Trama e quindi come tale impegnato politicamente e moralmente nella lotta al milazzismo di quella provincia per quanto riguarda poi le satorie concesse ai salvo dal governo Milazio devo intanto fare presente signor presidente che nel 1959 epoca in cui il governo Milazio conferì alcune satorie alla Sigert io ero totalmente estraneo a questa attività infatti chiarisco e lo ripeterò ripetutamente che non sono stato mai interessato alla Sigert e che non ho avuto mai in essa alcun interesse peraltro il conferimento delle satorie alla Sigert ad opera del governo Milazio fu stabilito dopo che una sentenza del consiglio di giustizia amministrativa aveva deciso che il gruppo Indici e le società che ad essa erano collegate non potevano gestire satorie in Sicilia la sentenza è del 32 1955 e nella parte relativa al dispositivo leggo brevemente dice in conclusione l'illegittimità del terreno impugnato in via principale e palese perché l'Incici non può essere nominato esattore delle imposte dirette quindi il conferimento non è stato un atto di favore e questa società da chi era ora lo dico signor Presidente questo conferimento non è stato un atto di favore ma è stato un atto dovuto in osseguo a una decisione dell'autorità giudiziaria peraltro questo decreto è stato impugnato dall'Indici davanti alla magistratura ordinaria e alla magistratura amministrativa in tutti i gradi di giudizio ed è stato sempre riconosciuto legittimo e dovuto non leggerò le sentenze ne cito semplicemente gli estremi poi le consegnerò alla Corte sentenza del Consiglio di Stato del 1912 1955 decisione numero 295 del 26 aprile 1960 del Consiglio di Giustizia Amministrativa decisione 302 del 20 1960 del Consiglio di Giustizia Amministrativa sentenza dalle sezioni unite della Corte di Cassazione 2196 e 2197 entrambi del 14 2 1963 da quanto ho documentato si vince come con quel conferimento il governo Milazzo avesse posto fine a una posizione a un conferimento illegittimo ripristinando una situazione di diritto e fra l'altro consentendo al governo regionale e ai cittadini un notevole vantaggio economico infatti nel decreto di conferimento alla Sigert nella parte relativa alla motivazione fra l'altro si legge riconosciuta la convenienza dell'offerta della Sigert che comporta anche una riduzione apprezzabile agli aggi di appalto anteriore per tutte le esattorie anzitette non leggo tutti gli aggi perché sicuramente annoierei la corte ma lei era di scena alla Sigert come? lei non ha detto di essere stato di scena sì sì e lo dico subito e allora a me viene perché l'accusa che mi si rivolge signor presidente è quella che il consiglio di amministrazione della Sigert nel febbraio del 1962 avrebbe deliberato di dare mannato all'esecutivo di effettuare delle spese senza obbligo di rendiconto devo ripeterlo io sono estraneo alla Sigert però siccome ritengo che questo argomento possa interessarmi anche indirettamente perché si parla di mio cugino Nino ritengo usile e necessario avanzare alcune precisazioni c'era il suo cugino Nino? no signor presidente Nino Salvo nel 1962 epoca della delibera non era socio della Sigert lo era la moglie con una partecipazione del 650% Nino Salvo non era socio pure non era componente del consiglio di amministrazione della Sigert non era dirigente della Sigert ma semplicemente segretario del consiglio di amministrazione e quindi soggetto senza potere né consultivo né deliberativo devo dire prima che lei poi continua altrimenti io potrei dimenticare la domanda volevo chiedere la prima esattoria che avete avuto insieme cioè Nino e Ignazio Salvo nel 1964 io ho incominciato ho incominciato io a interessarmi di esattorie nel 1964 con la SACAP che abbiamo gestito Palermo io fino a quell'epoca non mi interessavo di esattorie e vivevo in provincia di Trapani nel 1964 la prima esattoria che concerneva quale? Palermo Palermo direttamente avete cominciato con Palermo come l'avete avuto questa esattoria? avete è stata richiesta avete pagato una cauzione? la legge prescrive esplicitamente che sulla base di un carico evidentemente non ho qui gli estremi della legge mi deve credere sulla parola sulla base di un carico sulla base del carico che ha l'esattoria il carico si intende l'ammontare delle imposte che bisogna riscuotere viene stabilita una cauzione che viene rilasciata o con mezzi propri o con posibilità fide e ussoria noi abbiamo rilasciato sempre Polizza d'altronde il decreto per essere registrato ha bisogno che l'esattore dia tutte queste carenzine allora continui il consiglio di amministrazione della Sigert era composto da dottor Biancorosso prefetto della Repubblica dal dottore De Blasi in rappresentanza del Banco di Sicilia e tra tanti altri autorevoli professionisti in rappresentanza di più di 90 soci tutti esattori in carica della regione siciliana ma come è pensabile che uomini di tale elevatura morale si siano associati per commettere atti di corruzione e che non soddisfatti di questo abbiano deciso di consacrare l'illecito in un documento ufficiale la scoperta dell'ufficio istruzione non ha niente di segreto già nel 1964 essendo questi documenti pubblici la commissione antimafia aveva innacato su questo argomento successivamente aveva disposto gli accertamenti necessari che hanno sempre dimostrato come l'operato gli obiettivi e le realizzazioni del consiglio di amministrazione della Sigert fossero immuni da ogni irregolarità e in questo senso la commissione antimafia e il ministero hanno disposto una serie di verifiche ed accertamenti di cui l'ordinanza non tiene conto i verifichi ed accertamenti che hanno sempre dimostrato la pulizia della Sigert e dei suoi amministratori la verità signor presidente è che nello scontro tra i sostenitori dell'iniziativa privata nel settore esattoriale e i sostenitori della gestione pubblica nel 1960 non sono mancati i colpi bassi le accuse le insinuazioni ma proprio perché illazioni senza fondamento dopo un esame attento accurato da tutti gli organi preposti ai controlli sono state accantonate e ritenute letteratura giornalistica ora tutto questo materiale che non tiene conto né di verifiche né di accertamenti viene rispolverato viene articolato con fantasiosa intelligenza e diventa la scoperta dell'ufficio istruzione che prova alla corruzione dei salvo dimenticando che Nino Salvo nella Sigert nel 1962 non era né dirigente né componente del consiglio di amministrazione e che Inazio Salvo era ed è totalmente strano alla vita di questa società per completezza questo argomento si riferisce ad uno dei documenti rinvenuti nella cassetta di sicurezza di Nino Salvo quindi il collegamento non è non appare almeno così fantasioso evidentemente il merito non è argomento in questo momento di discussione però dico il collegamento Nino Salvo sarà stato nulla nella Sigert nel 1962 però conservava l'originale di quel verbale del consiglio di amministrazione la sua cassetta di sicurezza dove è stato la moglie c'era la moglie nella sua disponibilità no no è importante sforzarlo no dico c'era la moglie che era ha precisato l'imputato che c'era la moglie ma signor vorrei solo dire e poi non interferisco più se lei me lo consente signor Presidente che questa delibera fu oggetto di tale discussione nel 1964 e di accertamenti che non solo l'avrà avuta da Nino Salvo o il socio di Nino Salvo meglio ancora ma io credo che in Italia e in Sicilia l'avranno avuto centinaia di uffici perché questa scoperta di oggi era un fatto già accertato acclarato documentato nell'ordinanza poi perché si possa sostenere che il governo Milano era caduto nel 1960 perché il gruppo Salvo Cambria aveva ritirato l'appoggio allo stesso governo conciò condizionando i governi successivi ad una sorta di benevolenza nei propri confronti non si trova di meglio che la dichiarazione dell'onorevole Manino il quale alla fine aggiunge ovviamente tutto questo non mi costa personalmente perché allora ero ancora un ragazzo e non mi occupavo di politica siamo di fronte signor Presidente a un'accusa quanto mai inattendibile le memorie di un ragazzo acquisite per sentito dire nulla devo dire dell'onorevole Manino sono trascorsi diversi decenni evidentemente rimasto ragazzo ma mi resta la profonda amarezza per l'operato dell'ufficio istruzione avere elevato a elemento delle accusa notizie apprese per sentito dire per di più da un ragazzo ma a parte la considerazione che certamente tra i salvo di allora non ci poteva essere Ignazio Salvo perché io non mi interessavo né di esattorie né di qualsiasi voglia altra attività che avesse un qualunque riferimento con la vita regionale devo dire che la strada percorsa dall'ufficio istruzione è chiaramente piena di logicità dice il governo Milazzo e il governo della mafia e il gruppo Salvo Cabria lo hanno fatto cadere ma poiché ormai è accertato che la caduta del governo Milazzo fu un duro colpo che le forze democratiche assestarono alle forze delle versioni com'è possibile sostenere che il gruppo Salvo Cabria che questo governo fece cadere era nel contempo il rapporto di alleanza o di sodalizio con la mafia che secondo l'ufficio istruzione questo governo sostenere ma la verità è che quale che siano le cose io a quelle vicende sono totalmente estranei perché a quell'epoca non mi interessavo né di esattorie né di altro come mai lei si è incominciato a interessare di esattorie come si è un presidente dico come mai poi ha deciso di iniziare perché io mi interessavo di spazzature mi scusi avevo una società che si interessava di servizio di polizia nei paesi questa società nel 1964 acquisì questa esattoria di Palermo e incominciò a interessarsi di esattoria questa società che si occupava di spazzature era pure con suo cugino o era con mio cugino con suo cugino sì sì questo volevo dire su questa vicenda della Siget è chiaro come la testimonianza dell'onorevole Mannino nonostante le premesse che quanto da lui affermato non gli costa personalmente trasforma le insinuazioni giornalistiche mutuate dalla dietribe politiche in realtà storica l'ordinanza vuole anche evidenziare signor Presidente una mia attività che condiziona il mondo politico regionale ottenendo provvedimenti legislativi di favore come la legge di conferma decennale per gli agenti della discussione in carica o l'affossamento o meglio l'inzappiamento di alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare miranti alla creazione dell'ente regionale della discussione delle imposte dirette in Sicilia la migliore risposta a tutte queste relazioni viene dai fatti e solo ai fatti mi attesano per la creazione dell'ente regionale di discussione sono stati presentati in epoca diversa tre disegni di legge uno del 711 1959 uno del 31 3 1960 e uno del 4 12 1961 dalla lettura di questi disegni di legge della loro relazione emerge che almeno quando fu presentato un disegno di legge quello del 1959 gli esattori privati avevano una gestione esattoriale limitata a piccolissimi centri le grosse esattorie erano gestite da società con capitale pubblico che quando furono presentati tutti e tre i disegni di legge io ero estraneo ad ogni attività esattoriale peraltro nel disegno di legge presentato dall'onorevole giuseppe seminare ed altri nella relazione del deputato proponente fra l'altro si legge noi non vogliamo arrivare di soppiatto a questo secondo sistema che sarebbe l'ideale ma al quale si deve giungere per gradi dobbiamo però sforzarci di studiarne uno che stia tra la discussione diretta e quella indiretta e ciò è possibile ripresentando all'assemblea regionale il progetto di legge dell'ente della discussione che come voi sapete nella seduta del 14 e 15 dicembre 1950 non fu approvato per un solo voto da questa lettura e dalle osservazioni emerge chiaramente come questi disegni di legge essendo stati presentati in epoche in cui io non ero interessato al sistema non potevano essere dirette contro di me o contro le mie presunte illecitatività come sostiene l'ordinanza peraltro nella relazione dell'onorevole seminara si legge che questo contrasto tra i sostenitori dell'iniziativa privata e i sostenitori della pubblicizzazione risaleva al 1950 epoca in cui io ero uno studente liceale il disegno di legge numero 531 conferma in carica degli agenti di discussione per un decennio fu presentato dall'onorevole d'Angelo nel 1961 basterebbe questa data ed il nome del presentatore onorevole d'Angelo che mai ci ha risparmiato i suoi attacchi per capire chiaramente come io sia estraneo a tutta questa vicenda ma poiché anche qui la Corte può ritenere che la vicenda mi interessa indirettamente ritengo che sia utile e necessario fornire alcuni elementi chiarificatori il governo regionale già con legge 9 marzo 1953 e con legge 78 53 aveva regolato la conferma in carica degli esattori per il decennio 54-63 e salvo a quell'epoca non erano esattori nella relazione del governo d'Angelo e nella relazione della commissione finanze dell'assemblea regionale siciliana sono indicati chiaramente i motivi economici e giuridici che hanno reso necessario il vario di questa legge io mi astengo signor presidente perché non voglio annoiare la Corte anche perché mi riservo come ha detto il mio avvocato di presentare una memoria con tutti questi allegati mi astengo da leggere quanto è detto in questa relazione per sintesi chiarisco che chiaramente viene indicato come le condizioni degli esattori siciliani essendo più sfavorevole degli esattori del resto d'Italia in Sicilia l'agio doveva essere naturalmente maggiore dell'agio degli esattori del resto d'Italia le condizioni sfavorevoli quale sarebbero state qui in sintesi il mio discorso era molto lungo però lei mi dà la possibilità perché non voglio annoiarla di risponderle con le parole dell'onorevole D'Angelo cioè le parole di un uomo che in ogni circostanza ci ha manifestato la sua avversione premesso che io non sono interessato a questo problema signor Presidente ma chiarito dalla memoria di mio cugino Nino l'onorevole D'Angelo nella seduta del 14 dicembre il governo dell'onorevole D'Angelo nella seduta del 14 dicembre 1962 così si rivolgeva all'Assemblea sulla misura dell'agio incidono poi il carico medio delle ditte iscritte a ruolo e le difficoltà locali della riscossione il lavoro esattoriale è infatti collegato in modo determinante al numero degli articoli di ruolo delle ditte pagate se il carico per articolo ditta di lire 10 mila o di lire un milione l'esattore deve formare lo stesso numero di cartelle e di bollette curare gli stessi adempimenti supposto nel primo caso l'agio del 10% e nel secondo quello del 2% l'esattore percepirà rispettivamente l'agio di mille lire e di lire 20 mila con che di fatto riuscirà per lui più favorevole l'agio più basso e non il più elevato come con superficiale sredievo potrebbe apparire or bene nell'esistizio 1958 1959 mentre in Lombardia il carico medio per articolo di ruolo era di oltre lire 60 mila in Sicilia dalle carico medio era di appena lire 8 mila e mentre in Lombardia ad un carico complessivo di lire 269 miliardi suddiviso in 4 milioni e 324 mila articoli di ruolo corrispondevano agi per 5 miliardi con un agio medio del 2% in Sicilia con un carico complessivo di 44 mila miliardi di lire suddiviso in 5 milioni e 395 mila articoli di ruolo corrispondevano agi per circa 3 miliardi e mezzo di lire con un agio medio intorno all'8% non è chi non veda come sia pienamente giustificata l'elevata misura degli agi esattorali in Sicilia questo che ho letto è un passo della relazione del governo dell'onorevole D'Angelo presentato all'assemblea regionale nella circostanza dell'approvazione della legge quindi le condizioni di sfavore sarebbero in poche mi spiego signor Presidente mi spiego con un esempio e spero perché la materia è arida e mi perdoni se dico questo è solo adatta agli addetti ai lavori comunque è interessante con un esempio l'esattore del nord il quale concetto impiegato riesci in un anno a riscuotere l'ammontare di un milione di articoli di ruolo con il carico medio di 25.467 lire con l'agio del 3,57% ingassava nel mille incassava nel 1961 900 milioni l'esattore siciliano per riscuotere un milione di articoli l'ammontare di un milione di articoli di ruolo con il carico medio per articoli di 8.734 lire sempre con centi impiegati sempre con gli stessi investimenti sempre con le stesse spese con l'agio medio del 7,46% incassava 652 milioni cioè a parità di condizione l'esattore siciliano incassava il 28% in meno dell'esattore del nord questa è la conclusione ma qual era la ragione di questa disparità Presidente io avevo saltato e purtroppo allora lo devo leggere la cosa più importante è questa San Belito è la difesa l'avevo visto mi scusi annoiato avevo saltato questa parte specificatamente a pagina 7 e 8 della relazione si legge per acquisire i dati non sono io e la commissione finanza ma io la gradirei se lei lo dicesse lei con le sue parole può essere più chiaro anche la commissione finanza per acquisire i dati necessari ad una completa conoscenza della materia anche comparativamente con le altre regioni dello Stato un'apposita sottocommissione condusse a curate accertamente di fatto le cui risultanze riferite dal Presidente nella seduta dell'8 maggio possono così riassumersi in primo luogo è accertato che nelle regioni a basso reddito l'agio di riscossione è il più elevato rispetto a quello delle regioni ad alto reddito questa constatazione nasce esaminando l'elenco delle sattorie in secondo luogo si è avuta la conferma che in Sicilia l'agio di riscossione è il più elevato rispetto a tutte le altre regioni e che la situazione attuale si presenta aggravata dalla previsione di una diminuzione del carico tributario conseguente all'applicazione della legge che esonano i coltivatori diretti dal pagamento dell'imposta fondiale e che perciò farà diminuire il numero dei contribuenti c'è uno specchietto riepilocativo in questa relazione no io ancora non ho capito da questo c'è uno specchietto riepilocativo per pagare le imposte pagavano ognuno 24.667 litri su queste somme veniva pagata era la media dei contribuenti su queste somme veniva pagata veniva pagata l'agio esattoriale mi scusi ma in tutte le regioni d'Italia perché è vero che noi in Sicilia siamo le generentole della situazione ma penso che ci sono altre regioni che non per esempio in Calabria a Basilicata rispondo su intanto Presidente va chiarito perché questo non l'avevo detto perché avevo accorciato che nel 1961 epoca della presentazione della legge e poi nell'anno successivo epoca dell'approvazione della legge l'agio massimo in Italia era ovunque del 10% signor Presidente l'agio massimo di Milano come l'agio massimo di Palermo era del 10% solo che nelle gare di appalto di Milano lo Stato realizzava agi del 2 del 3 del 4% nelle gare di appalto della regione siciliana o delle Calabria o degli Abruzzi realizzava agi del 10 dell'8 del 9% in Sicilia stesso il gruppo esattoriale cosiddetto Salvo Cambria anche se io non facevo parte di questa società la Sigert gestiva esattoria con il 4% come per esempio quella di Ragusa perché tutto dipende dal carico che ogni esattoria ha e dall'ammontare delle imposte che ogni contribuente paga è chiaro se il contribuente paga un milione con un agio del 2% io percepisco esattore 20 mila lire se il contribuente paga 10 mila lire io percepisco 200 lire non so se sono stato chiaro ma spero di avere l'idea con lo stesso lavoro con lo stesso lavoro dico con lo stesso lavoro cioè con la stessa esplicazione di attività di attività ecco Presidente l'ordinanza è qui un punto al quale faceva c'è poco fa il signor procuratore afferma che manca qualunque motivazione per l'abolizione operata dalla commissione e finanze dell'assemblea regionale dell'articolo 5 del disegno di legge 531 che era la conferma decennale degli esattori in carico mi astengo da leggere l'articolo 5 che sicuramente è conosciuto alle vostre signorie ma devo fare subito notare che anche qui l'estensore dell'ordinanza non ha ritenuto di leggere gli atti parlamentari a pagina 7 e 8 della relazione infatti è indicata è indicato il motivo per cui viene abolito l'articolo 5 ed è la parte della relazione dove riportando il parere del professore virga dice ed infine espresse il parere che la norma prevista dell'articolo 5 fosse da considerare in contrasto con il principio che la concessione delle esattorie sia che avvenga mediante appalto oppure mediante conferma debba avere luogo singolatime onne consentire di fare gravare sui contribuenti il minore agio possibile questo è scritto nella relazione peraltro Presidente tutte le leggi di conferma degli agenti di riscossione in carica dal 1871 perché la prima legge di conferma è del 24 1871 fino al 1973 nell'arco di oltre un secolo hanno sempre previsto la conferma per le esattorie per le quali l'esattore aveva avanzato richieste l'articolo 5 citato dall'ordinanza fu bocciato dalla commissione con valida motivazione tanto che nessuno dei deputati dei 90 deputati compreso l'onodevole d'Angelo hanno ritenuto di doverlo presentare in aula nella seduta del 14-12 1962 quando si vuole fare dell'accusa agli esattori per quell'articolo 5 bisogna pensare che 90 deputati compreso l'onorevole d'Angelo erano condizionati dagli esattori signor Presidente questo non solo non è pensato ma è assurdo ed impossibile l'ordinanza poi a pagina 6826 citando il rapporto della Chiesa del 22 marzo 1971 fa intravedere un possibile condizionamento della vita regionale con riferimento a una vicenda dell'assemblea regionale siciliana nella quale la maggioranza governativa aveva respinto con 44 voti contro 26 una mozione dell'opposizione riguardanti l'affidamento di esattoria in delegazione mozione appoggiata dall'onorevole d'Angelo che su questa vicenda aveva peraltro presentato un'interperlanza poco c'è da dire su questa accusa tanto è palesamente assurda ed ingiustificata bastava leggere la replica dell'assessore delle finanze replica ai presentatori della mozione e ai presentatori dell'interpellanza sarebbe necessario leggerla tutta ne leggo poche parole pochi tratti perché la signoria possa avere chiari elementi per un sereno giudizio assessore alle finanze con la mozione e l'interpellanza questa assemblea torna ad occuparsi dell'assegnazione in delegazione governativa dell'esattoria vacanti per deliberare secondo il testo della mozione l'impegno del governo a revocare la nomina della satris al fine di procedere successivamente al conferimento delle predette esattorie alla cassa di risparmio in merito a quanto riportato torna necessario esporre alcune premesse che scaturiscono da una visione delle cose quale può avere chi oltre a essere uomo politico è diretto responsabile dell'amministrazione finanziaria una visione cioè che non può riflettere gli interessi di parte e la cretine delle diatribe politiche ma deve costituire un'obiettiva e serena valutazione dei fatti quale può effettuarsi tenendo nel dovuto conto tutte le considerazioni di merito e di legittimità che determinarono la scelta dell'amministrazione finanziaria né vale dire che per le sattorie delegate dovrebbe applicarsi il principio confermato dal consiglio di giustizia amministrativa valevole per le tesorerie comunali secondo cui devono trovare preferenza agli aziende di credito tuttavia il criterio preferenziale a parità di condizione a favore della cassa di risparmio è stato seguito all'assessore pervennero così tre offerte una della satris una della sigert e una della cassa di risparmio quella della cassa di risparmio questa si dichiarava disposta a continuare la gestione delle sattorie in delegazione alle stesse condizioni a suo tempo attribuitele ed in particolare col compenso determinato nella misura del 2% la stessa cassa pretendeva altresì che le spese per il personale di direzione centrale le fossero rimborsate la sigert inchiodeva la concessione alle stesse condizioni della cassa con esclusione però del rimborso spese per la direzione centrale e con la riduzione dell'agio all'1,50% l'istanza della società satrisi migliorava quest'ultima offerta riducendo all'1% di lire di riscosso il compenso delle spese di direzione l'esame decomparativo delle tre istanze metteva in luce chiaramente come la più vantaggiosa fosse quella della satris in osseguo a quanto disposto dalla giunta di governo l'assessore delle finanze portò a conoscenza della cassa di risparmio le condizioni migliorative della satris con lettera del 18 gennaio 1966 la cassa di risparmio fece sapere con nota del 19 gennaio 1966 che non poteva offrire le condizioni fatte dalla satris se ne leggi il testo onorevole assessore delle finanze della regione siciliana Palermo il riscontro alla nota segnata a margine questa cassa dopo attento riesame degli oneri che comporta la gestione delegata delle sattorie vacanti in Sicilia è vivamente dispiaciuta di dover confermare il quanto già comunicato con nota del 30 di gennaio del 30 dicembre 1965 facendo presente che l'assunzione del delicato servizio alle condizioni offerte dalla Sigerte e dalla satris si comporterebbe per la cassa una gestione sicuramente passiva ringraziando per la preferenza accordata a questo istituto si porcono distinti saluti stante ciò era più che evidente che la scelta non poteva che ricadere sulla satris questo questa la risposta del governo in verità signor presidente in quella circostanza l'opposizione e l'onorevole D'Angelo in violazione della legge volevano che alcune esattorie fossero concesse in delegazione governativa alla cassa di risparmio Vittorio Emanuele nonostante l'offerta che questa avesse avanzata fosse di gran lunga meno vantaggiosa di quella degli esattori privati evidentemente interpellanti ritenevano di operare in uno stato in cui al diritto si doveva sostituire l'arbitrio alla fine di questa osservazione della cosiddetta ordinanza parte politica e dopo la lettura degli atti dei documenti lettura parziale di questi documenti che pur tuttavia nella loro integralità saranno allegati come avevo detto prima ad una memoria che mi riservo di presentare alla corte nel corso del dibattimento è necessario precisare che i cugini salvo non hanno cercato mai di influenzare né tantomeno di condizionare l'onorevole D'Angelo né quando questi era presidente della regione né quando era segretario regionale della democrazia cristiana né quando era deputato e questo lo dichiara lo stesso onorevole D'Angelo nell'interrogatorio reso al giudice Falcone l'11 febbraio 1985 mi astengo dal legge è utile pure chiarire che i cugini salvo non hanno cercato mai di sensibilizzare l'onorevole Mannino alla tutela dei loro interessi personali neanche quanto questi era assessore alle finanze e quindi poteva condizionare la gestione delle sattorie alla fine signor presidente una sola considerazione ho motivo di ritenere che se questa parte se le accuse di questa parte dell'ordinanza mi fossero state contestate o se l'ufficio istruzione avesse fatto ricorso ad approfonditi accertamenti documentali ho motivo di ritenere che questa parte dell'ordinanza mi sarebbe stata risparmiata io la ringrazio signor presidente per avermi concesso prego lei mi deve ringraziare perché la corte la ringrazio soprattutto per avermi per aver elevato questa mia esigenza di difesa in un mio diritto alla difesa e questo è per tutti senta io volevo farle un'altra un altro rilievo ci sono alcuni rapporti dei carabinieri del Tapanese che parlano della famiglia salvo attribuendo ad essa famiglia salvo reso cugino un controllo di una larga fetta dell'elettorato trabanese che fondamento hanno queste signor presidente io devo dirle e lo dico con assoluto rispetto perché non vorrei che si potesse dedurre un significato diverso da quello che ha che non mi aspettavo di dover rispondere delle mie idee politiche e dell'influenza e della simpatia e mi permetto di dire dell'amore che molte persone hanno per me ma se lei me lo chiede vuol dire che è utile ai fini processuali ci sono citati nell'ordinanza come che lei conosce sono stati citati questi rapporti dei carabini che parlano di un controllo è chiaro che no presidente in Italia viviamo il regime di democrazia e il controllo dei voti è un controllo che può esistere sono in paesi di altra natura il consenso in Sicilia è un atto di fiducia e di stima ma devo dire signor presidente perché questo va chiarito che io mi sono interessato di politica fino alla fine degli anni 70 perché quando dal 1964 ho incominciato a svolgere un'attività imprenditoriale a livello regionale ho ritenuto incompatibile la mia attività imprenditoriale con l'attività politica e non ho partecipato più a congressi o a battaglie di idee all'interno del partito e sono rimasto semplicemente un iscritto al partito fino al 1983 epoca in cui ho ricevuto la comunicazione giudiziaria perché ho sempre ritenuto che la mia iscrizione al partito era un atto di servizio alle idee e non ho mai considerato il partito al mio servizio io comunque la mia domanda la devo chiarire quando si parla di controllo lei sa che l'accusa che è stata fatta sulla base dell'edicazione di Vucetta è di far parte di cose nostre di essere un uomo d'onore ora tra le varie attribuzioni che vengono addebitate all'associazione mafiosa c'è quello anche del controllo dei voti quindi di esercitare una signor Presidente manca la premessa in tutto questo per quanto mi riguarda io non sono mafioso se in epoca molto lontana avevo dei consensi erano dei consensi dovuti al contributo di idee che sapevo portare nell'acone politico è solo questo in epoca peraltro molto lontano ma tengo a precisare signor Presidente che i rapporti di polizia a cui lei fa riferimento nell'arco di oltre 30 anni parlano di me sempre in termini elogiativi ad eccezione del rapporto di polizia del brigadiere di Salemi del 1965 che come risulta chiaramente poi dagli atti processuali era dovuto a un'informativa di un confidente ma per oltre 25 anni e nell'occasione annuale del rinnovo del porto d'arma le forze dell'arma la questura di Trapari i carabinieri di Palermo la questura di Palermo hanno sempre evidenziato le mie qualità morali e il mio modo irreprensibile di vita io sono qui perché il signor Buscetta mi ha voluto qui e secondo lei per quale motivo presidente non voglio dire che io sono un ostaggio nelle mani della magistratura perché io non lo so io sono un uomo che ha fiducia nella giustizia e spero che giustizia che giustizia mi sia fatta Buscetta per diverse volte non dico assolutamente sollecitato ma richiesto negò di conoscere i salvo e di averli mai incontrati dopo ben tre mesi e mezzo dal primo interrogatorio edotto ormai sulle vicende del nostro paese e per la lettura della stampa e per i contatti personali ai quali certamente era autorizzato e che purtroppo io non conosco divenuto tra l'altro lo si deduce chiaramente dalla sentenza di rinvii a giudizio un profondo conoscitore della società siciliana che con il suo profondo bagaglio culturale satisquisive ecco che lo stesso Buscetta accusa i salvo diventa lui Buscetta un fustigatore di costumi che accusa una persona maliziosamente definita intoccabile che lui dichiara suo amico ma che per non essere neanche suo conoscente non crea nessun problema la sua coscienza ma da quel momento è diventato un eroe nazionale e non voglio dire perché questo non mi risulta che tutte le cortesie che ha avuto tutti i riconoscimenti che ha avuto di un pentitismo che certamente non è il pentitismo che noi cattolici riconosciamo cioè un momento di elevazione morale un momento di riconoscimento delle proprie colpe e la promessa di non commettere più in avvenire un pentitismo strumentale lo ha trasportato verso libi magnifici e dietro questo non c'è niente che possa ricollegare questa vicenda con le dichiarazioni a carico di Ignazio Sala io porto in quest'Aula 30 anni di attività imprenditoriale 30 anni di vita circondata dall'affetto e dalla stima dell'opinione pubblica io non vorrei interromperla comunque mettiamoci sui binari ordinari non è la mia intenzione quella di io volevo una risposta per assaggiare se lei potesse giustificare personalmente le accusa di Buccetta il quale non è che le ha fatte soltanto a lei o al suo cugino le ha fatte anche signor giudice le accusa di Buccetta se fosse solo per lei magari allora io potrei capire che Buccetta ha parlato dei salvo perché sono tante accuse che ha fatto Buccetta signor Presidente Buccetta ho detto inizialmente ha fatto a mio carico tre accuse le voglio ripilogare di nuovo sì ma guardi quella di cui io le chiedo no no scusate quella che io le chiedo è soltanto la partecipazione su cui mi riferisco io non ho bisogno di pensare il perché Buccetta ha detto questo perché delle tre accuse due non è lei che deve pensare sono chiaramente mi scusi è lei che te lo risponde alla mia domanda se mi sa dare un motivo per cui Buccetta personalmente che sono una credine un desiderio di vendetta non c'è lei la deve cercare se si può cercare nei vantaggi che ha ricavato però signor Presidente ma accusando soltanto lei o accusando tanto non mi ha dimenticato che a Buccetta mi fa due accuse che sono quelli sui quali io posso portare delle prove documentali ho aiutato Ciancimino tramite Martellucci l'ho visitato alla villa di Zaccarello il Signore mi ha dato la fortuna di poterle contestare documentalmente e per questo vi reputo nella mia disgrazia un uomo fortunato perché ciò avrebbe potuto non essere ma sarebbe stato assurdo Signor Presidente che la mia parola la parola di un cittadino dalla vita irreprensibile per più di 30 anni non sia creduta e sia creduta la parola di Tommaso Buccetta ma a prescindere da questo io documento non conosco l'Avvocato Martellucci non sono stato mai a visitare Tommaso Buccetta è un impostore lei può anche provare di essere stato in Svizzera e di non essersi mostro dalla Svizzera quel periodo ho la nota dell'albergo la nota dell'albergo sarebbe il 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 conto dell'albergo ma uno si può allontanare dall'albergo lei abitava in una ma che succede che cosa è che succede ma guarda un po' signor Presidente potrei rinforzarti di centinaia ho chiesto che vengono a testimoni ma non lo dica al microfono altrimenti si perde posso portarli di testimoni a centinaia ho chiesto fra l'altro che vengano a testimoniare le mie collaboratrici domestiche e del mio autista che sono cittadini stranieri e certamente non sospettabili i quali confermono che io sono stato assente dal 21 dicembre al 10 gennaio ma io la domanda era rivolta proprio a lei e nel senso di dire lei non si è allontanato non mi sono allontanato e l'ho documentato non è che stavo per quanto riguarda poi la produzione documentale che lei farà sì ora lei la potrà anzi forse è meglio che questo si faccia tramite i suoi difensori no? per quanto riguarda queste prove questi documenti riproduce la difesa noi avevamo messo a disposizione della corte perché la corte potesse già nel porto delle dichiarazioni del totto salvo sì parliamo il microfono professore perché altrimenti non resta magari cortesemente indicando il cognome avvocato avvocato coppi dicevo che noi avevamo preparato questa documentazione proprio per atto di riguardo alla corte in modo che la corte potesse seguire durante le dichiarazioni del totto salvo la verità di quanto diceva su base documentale ma lui ha fatto precise indicazioni e noi abbiamo seguito per quanto riguarda la documentazione all'italia faccio presente di averla richiesta io personalmente ed ecco perché vi è una risposta indirizzata a me quindi questo per chiarimento in modo che c'è una richiesta ufficiale della difesa all'italia affinché l'italia desse reso conto dell'impiego di quei biglietti da chi fossero stati acquistati da chi impiegati diciamo che la difesa si associa alla richiesta dell'imputato di produrre questi documenti vogliamo acquisire il no poi per le domande acquisiamo i pareri intanto per la produzione di questi documenti ma le parti civili non si oppongono pubblico ministero è una non opposizione a volo cieco perché non sono stato messo in condizione di guardarla questa documentazione ma comunque siccome no è chiaramente conforme a quella che ha citato l'imputato l'imputato l'ha citato si si appunto suppongo che sia che completi tutto quanto ha detto l'imputato senz'altro non mi oppongo va bene va bene allora la corte ammette la produzione no 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 non stiamo licenziando l'imputato ora diamo luogo alle domande se non ci sono domande Giulia Nattere vuole rivolgere qualche domanda possiamo proseguire ancora per un po' poi se ci sono motivi di stanchezza prenderemo un consiglio Giulia Nattere e poi diamo la parola alle parti civili la mia è una richiesta in un certo senso il connome il connome si avvocato Galasso nell'interesse di Fernando Dallacchiesi la mia è una richiesta in un certo senso preliminare Presidente come mi sembra importante questo interrogatorio per tutto il quadro generale del processo io dati i rapporti di parentela ma anche di affari tra Ignazio Salvo e Antonino Salvo che purtroppo è deceduto io chiedo che la Corte Presidente dia lettura degli interrogatori di Antonino Salvo detto Nino perché mi sembra possono essere molto utili per ricostruire l'insieme dei fatti che riguardano il cosiddetto capitolo salvo dell'ordinanza sentenza e anche in relazione ad eventuali domande che possono essere fatte dagli avvocati di parte civile ma anche dagli altri avvocati dal Presidente dai pubblici ministeri a Ignazio Salvo all'imputato che è presente qui è una richiesta di dare lettura vediamo il tuo ministero eh? certo la difesa senza per il gusto del rispetto del codice di procedura penale perché non è prevista la lettura di un atto di questo genere sarebbe la lettura dell'atto proveniente da un imputato morto nei cui confronti si può fare soltanto una cosa dichiarare l'estinzione del reato per morte del reo poi casomai può essere utilizzato ai fini di contestazione ma la lettura come atto in sé cioè di lettura al dibattimento di questo atto a mio avviso non è prevedibile questo è utilizzato presidente no presidente io non mi sono apposto e non ritengo tra l'altro che dal punto di vista istruttorio sia estremamente giovevo per procedere a questa lettura non ritengo che vi sia alcun divieto espresso di legge tra l'altro siccome la contestazione è sempre salva questa lettura può essere un'analitica contestazione di quanto emerge dalle dichiarazioni di un diverso imputato sia pure purtroppo successivamente deceduto quindi non mi pare che divieti di legge dal punto di vista procedurale è assolutamente da escludere che bene siano sulla opportunità questo pubblico ministro ritiene che questa opportunità sussiste per cui non si oppone la richiesta valutera la corte e poi sentata l'opportunità sussiste ma divieti di legge non ve ne sono no c'è la situazione processuale di un imputato che per morte del reo ma quella dichiarazione con l'intervalorio ha resi salvo unito sì no fa parte del processo è in una situazione processuale particolare dovrebbe essere stracciata per procedere alla sentenza di non dovesse comunque facciamo una cosa intanto la corte si riserva perché credo che questa sia più una richiesta rivolta alla corte che al presidente in quanto che mi pare che mi pare che sia più alla corte che al presidente quindi per ora riserviamoci su questa richiesta intanto vogliamo precedere la domanda dell'udiant e eventualmente poi sospendiamo l'udienza e lo riprendiamo successivamente l'interrogatorio così abbiamo anche tempo di variare questa richiesta in camera di consiglio allora vogliamo precedere alle tue domande sì scusa senta cara donna Gianluigi lo conosce sì lo conosco posso fare un chiarimento l'ordinanza spesso attribuisce a me vicende di mio cugino è vicende mia a mio cugino dobbiamo fare chiarezza cara donna Gianluigi è nipote di mio cugino figlio della sorella di mio cugino ed è procuratore in società di mio cugino con me non ha avuto mai alcun rapporto ma nell'ordinanza non so perché si dice che sia procuratore di società dei santo siccome io con mio cugino ho un rapporto solo in una società che è la Satres e cara donna non è procuratore della Satres non capisco com'è che mi venga fatta questo non è un'accusa cioè come venga fatta questa osservazione per noi rimane ma io le dico come faccio cosa posso fare per contrastare non vorrei mancare di rispetto all'ordinanza ma la fantasia dal volta dell'ordinanza posso solo dire cara donna Gianluigi è nipote di mio cugino Nino procuratore cura tuttora l'eredità di mio cugino Nino ma certamente non è mio procuratore dico tra l'altro non avevi di chi lamentarmi perché è un ottimo ragazzo dico voglio chiarire che dall'ordinanza signor giudice usa il sistema di attribuire a me qualunque reatto ipotizzabile o qualunque accusa ipotizzabile che riguarda il mio cugino senza che ciò crea nessun problema di coscienza all'estensore dell'ordinanza e senza che crei preoccupazione per lo sfaltamento della sfera giuridica dei diritti soggettivi del cittadino io ritengo e il mio cugino Nino si riteneva di avere una nostra persona giuridica che non le posso consentire come può lei dare un giudizio sulla coscienza di che è stessa vuol dire che hanno ritenuto quegli elementi validi lei può semmai non è che ho detto che crei problemi di coscienza potrò sbagliare io potrò sbagliare io potrò sbagliare io questi casi caradonna quindi è procuratore personale non procuratore personale di mio cugino Nino per chiarire caradonna Gianluigi avevo un conto intestato a lui di mio cugino Nino questi sono i rapporti un conto del cugino Nino intestato a Gianluigi caradonna che faceva tutta l'operazione che lo zio gli ordinava ok il fatto che veniva contestato era il prestito o presunto tale di 300 milioni a Salvatore Greco veda signor Presidente signor Giudice l'ordinanza che carica a me le responsabilità di mio cugino e viceversa per essere coerente mi doveva pure caricare tutte le vicende che potevano riguardare un mio omonimo lì per la parte dell'ordinanza di cui parla lei si parla di un salvignazio ma l'ordinanza non chiarisce io fra l'altro non ho portato la documentazione completa volevo chiarire che si tratta di salvignazio nato nel mille si tratta di un'altra di un'altra operazione chiarisco subito nato nel 1962 e quella provvista di cui parla l'ordinanza io ho una provvista per 322 milioni 46 mila 958 che il signor salvignazio nato il primo di febbraio del 1962 di cui il signor salvignazio si è giovato presso il banco di Sicilia di Salerno io qui ho il bollettino di conferimento la mia difesa non so se l'ha portato ha a disposizione la fotocopia degli assegni la fotocopia di provenienza delle somme e la fotocopia delle matrici degli assegni bancari gli originali vogliamo notare pure al pubblico ministero così alle parti civili se vogliono prendere visione evidentemente c'è una richiesta di esibizione di questo di produzione come dici sempre no no parlavo avvocato seminario senta ma il viariosto numero 12 è l'applicazione di mio cugino di suo cugino Salvo Ignazio è il figlio di mio cugino è il figlio di suo cugino quindi dico comunque non è lui si poteva benissimo dire che ero io per arrivare all'identificazione questo non crea proprio problema è la propista per i trecenti è nato nel 62 uno contro visto per i trecentottanta milioni si che per i globali assegni trecentottanta milioni c'erano al triterato assegni per trecentottanta milioni cento milioni ma nessuno non ha mai detto che l'ha fatto cento milioni sono finiti in quel conto che ha fatto l'operazione in favore notario trecento ventidue qua mi pare insomma è trelevato dalla Salvo Gnazio c'è da due figli di Dino Salvo non è che è contestato all'impotente come no ah si come no dire che il pubblico ministero è più come no no perché questo Salvo Angel e Salvo Gnazio sono i figli di Dino Salvo loro hanno fatto questo prelievo si ma nel momento in cui nell'ordinanza non è chiarito ah si dice Salvo Gnazio bisogna chiarire l'ordinanza non dice Salvo Gnazio non conoscevo la realtà ma in effetti nell'ordinanza non è molto chiarito hanno detto soltanto Salvo Gnazio per me sì per me è pacifo io direi che è meglio produrre ma produciamo anche le patricie degli assegni sono già la scusa c'è tutto un capitolo che riguarda i prestiti a Michele Greco da parte di tramite Notaro Andrea tramite Caradonna non è una vicenda che mi riguarda ecco siccome per esigenze di chiarimenti ci è messo Salvo Gnazio Senta lei ha parlato del fatto appunto che non nelle sue dichiarazioni ha testualmente detto non sono mai stato mafioso sono uno dei tanti imprenditori che per sopravvivere ha dovuto scendere a patto con i nemici della società questo scendere a patto a patti scendere a patti con i nemici della sua questo scendere a patti il che riscontrerebbe scusi mi faccia finire con altre dichiarazioni fatte da suo cugino nel senso che era quasi un sopportare una situazione il suo cugino si è reso conto che il fenomeno mafioso dal quale riteneva di poter prescindere era una realtà immanente nella vita siciliana e che si doveva concretizzare questa presenza imprenditoriale questa coesistenza col fenomeno mafioso attraverso un determinato rapporto che è fatto di favori o è fatto di altre cose se lei siccome parecchi di questi favori secondo quello che ha detto suo cugino ne hanno fatto anche tramite società nelle quali lei era cointeressato se ci può chiarire qual è questo rapporto e quali erano questi favori Presidente per quanto il signor giudice per quanto riguarda la mia dichiarazione come lei appena ha detto è collegata con le dichiarazioni di mio cugino in sede di interrogatorio al centro di tutta la vicenda come purtroppo al centro delle nostre vicende c'è stato il povero mio cugino Nino e la mia era una naturale e spontanea considerazione di fronte al comportamento di mio cugino che aveva dato la sua casa ad un estraneo mentre avevo e ho la certezza che se io o suo fratello gli avessimo chiesto l'uso di quella villa certamente non ce l'avrebbe data e ho inteso allora esprimere davanti al giudice istruttore la mia piena solidarietà a mio cugino per la vicenda dolorosa in cui era coinvolto e ho inteso anche manifestare la mia comprensione facendo mie le sue vicissitudini perché tale era il rapporto di affetto e di stima che io avevo per mio cugino Nino sì ma questi favori in che cosa si concretizzava questo rapporto che lei può solidarizzare con il suo cugino la mia dichiarazione faceva riferimento a questa concessione della villa delle altre vicende che riguardavano la famiglia di mio cugino Nino o non ero a conoscenza o se non c'erano posso rispondere non c'erano impiegati mafiosi assunti alle sattorie di Palermo io nelle sattorie di Palermo chiarisco subito ero prima funzionario e poi funzionario dirigente e certamente non mi occupavo per il mio grado e per il mio rango di queste cose l'assunzione evidentemente era una cosa di maggiore potere societario però su questa faccenda delle delle assunzioni è stata fatta tanta storia ma agli atti di altro procedimento risulta chiaramente come queste assunzioni non ci sono agli atti del procedimento per le misure di prevenzione tutte le assunzioni mafiosi che sono state fatte alla sottoria di Palermo si riducono alla fine secondo le magistrate inquirente a quello di un tale Giovanni Zanco che quando fu assunto era una persona assunta perché poteva fare la guardia giurata perché in possesso di portonarmi di pistola se la questura se la magistratura non sapevano che era un progiudicato qual è il motivo per cui il cittadino lo deve sapere e se non lo sa poi deve essere accusato di questo non ci sono altri in più di mille impiegati non sono stati trovati assunzioni che potessero riferirsi a una qualunque matrice mafiosa ma le cose come dicevo poco fa non ha importanza che siano bene signor giudice nel processo parallelo che si è instaurato al di fuori di questa tavola le cose basta che le si ripetano quando si ripetono con insistenza allora diventano realtà senta lei badalamenti Gaetano l'ha come conosciuto non l'ho mai conosciuto la società Comit di Palermo la società Comit di Palermo è la banca commerciale si si ho avuto rapporti con la banca commerciale per una richiesta di fido presentata dai coniugi badalamenti fara danna girolamo parenti di Gaetano badalamenti è rindicato come garante l'odierno imputato Salvo Ignazio si l'ordinanza è a pagina 6911 afferma che Ignazio Salvo era indicato come garante dai coniugi danni a badalamenti per una richiesta di fido bancario e conclude che la vicenda è significativa ma la invontatezza signor giudice della conclusione cui perviene l'ufficio istruzione la se vince leggendo quando è scritto a pagina 7816 della stessa ordinanza sulla stessa vicenda e leggo testualmente il dossier era relativo ad una richiesta di fido datata 2511-80 ai firma dei coniugi danni a badalamenti ed era comprensivo di alcuni appunti manoscritti e della loro situazione patrimoniale da uno di questi appunti redatto dal funzionario addetto si evince che furono indicati dal danno a girolamo quali eventuali garanti tali Mialo e Salvignazio più esattamente indicati dal predetto funzionario il primo in un commerciante di vini il secondo in Salvignazio nato a Salemi il 27.5 1931 per quanto ho detto devo precisare il nome di Ignazio Salvo era in un appunto manoscritto dal funzionario della banca non era nei documenti predisposti dall'istituto e messi a disposizione dei clienti il mio nome aveva anche l'indicazione della data di nascita e come costretto ad ammettere lo stesso redattore dell'ordinanza era stato chiaramente indicato meglio indicato anzi dice dal funzionario della banca il nome di Ignazio Salvo non era nei documenti manoscritti o firmati dai coniugi badalamenti se io avessi dato un parere favorevole o una garanzia per l'operazione che i coniugi danni a badalamenti volevano porre in essere dovrebbe risultare dalla pratica e ciò non è allora al contrario da quanto edince il giudice istruttore appare chiaro che tra me e badalamenti non c'è alcun contatto tanto che l'istituto bancario non mi ha chiesto né il parere né la fiducia e raggiungo signor giudice se me li ha chiesti e lì non c'è scritto non ho potuto che rispondere in un solo modo non conosco i coniugi danni a badalamenti i quali peraltro saranno delle persone ed è bene ma io non li conosco sì mi chiedo scusa avvocato Paolo Seminari a questo punto vorrei fare un'istanza alla corte da aggiungere altre precedenti istanze che la corte cioè voglia acquisire l'interrogatorio reso dell'Anna Girolamo nel famoso bis 416 bis che per il quale attualmente si procede presso l'ufficio istruzione io ho la copia di questo interrogatorio e lo posso porre a disposizione della corte ma ai fini dell'autenticità e dell'immediatezza della proposizione chiedo che la corte si lo acquisisca voglia acquisire l'interrogatorio di il delegatorio di Danna Girolamo su questo punto che sarebbe il funzionario che non conosce Salvo Ignazio che non aveva nessuna ah ne aveva molto sebbene sì ma beh allora voglia e c'è una richiesta dell'avvocato acquisiamo i pareri parte civile pubblico ministero sarebbe forse più opportuno sentire questo Danna ai sensi del 348 bis secondo il reato connesso mi sembra che la corte sarà posta nelle condizioni di apprendere direttamente dalla fonte le circostanze anziché leggere in un verbale Danna Gironomo sarebbe un parente di Gaetano Badalamenti Badalamenti sposato con Badalamenti parte di moglie è sposato con Badalamenti Fara per chiarire il mio pensiero io non mi oppongo a questo contributo istruttore anche perché poi c'è il solito problema del 165 bis che non sarebbe applicabile comunque nella sostanza tutto è superabile sentendo non possiamo citare esatto citando il Danna ai sensi del 348 bis come imputato del reato connesso l'altro è meglio per la corte perché l'oralità verrebbe garantita al meglio io non ho nulla da modificare perché non non trovo ostacoli grazie a tutti se poi si appara la facoltà di non rispondere e poi successivamente si può acquisire il verbale rimane non è che c'è problema ci riserviamo su entrambe le istanze che adesso sono due acquisizione del verbale interrogatorio e l'eventuale audizione le parti civili mi pare che io l'ho invitata alla conclusione probabilmente allora l'imputato lo possiamo licenziare mi pare che ci sia un autorevole l'autorità che stabilisce l'andamento per il suo che dice l'avvocato non l'ho sentito ho avuto la risposta che istituzionalmente non mi pare che fosse propria la mia domanda era presidente intendo continuare l'interrogatorio la signoria vostra perché aveva detto che erano le ore 13 ma qualcuno arbitrando diciamo nei poteri del presidente ha ritornato ad anticipare la risposta io non so la signoria vostra cosa ne pensa io non ho sentito l'anticipo non l'ho sentito mi scusi perché stavo sì un attimo solo per ora stavamo pensando comunque rimane fermo che sono le 13 e 10 questo come fatto storico dico è fuori contestazione prescindendo dai ruoli ci sono domande va bene la speranza è l'ultima a morire l'applicato va bene allora siccome l'interrogatore non si può esaurire nel giro di un breve domande ancora no non possiamo prevedere le domande del parte civile del proprio ministro e anche degli stessi difensori ma io ho difficoltà a anticipare che qualche domanda ce l'ho questo è un anticipo ponderoso mi auguro ma c'è io penso che anche perché il rimputato è anche stanco mi pare che sia legittimo quindi penserei di si dice rimputato ma in realtà si di sospendere l'udienza fino alle ore 15 e 30 e la corte entra anche in camera di consiglio per decidere su alcune istanze sulle quali non ha potuto prendere dunque la corte decidendo sulle istanze di concessione di arresti domiciliari avanzate nell'udienza del 21 maggio 1986 nell'interesse di Locascio Gaspar Locascio Salvatore Locascio Giuseppe imputati dei reati di associazione per delinquere associazione per delinquere di stampo mafioso associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e spaccio detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti capi 1 10 13 e 22 della rubrica è tenuto che valutata la pericosità sociale degli imputati desumibile dai precedenti giudiziari limitatamente a Locascio Salvatore Giuseppe dalla loro personalità dalla gravità dei fatti e dalle circostanze oggetto di contestazione nonché dall'entità e dal numero dei reati per i quali sono stati rinviati il giudizio di questa Corte tra cui anche la detenzione e lo spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti l'esigenza di tutela della collettività allo Stato non appaiono salvaguardate dalla sostituzione della detenzione in carcere con quella nella propria abitazione ritenuto che nella fase ribattimentale in corso e prima della sua conclusione non possono formare oggetto di valutazione gli elementi prospettati della difesa che attengono alla decisione di merito ritenuto che si procede per reati per i quali è obbligatorio all'emissione del mandato di cattura e non ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 254 comma secondo richiamato dall'articolo 254 bis comma secondo e dall'articolo 254 ter codice pregiù penale per questi motivi rigetta il parere visto il parere del primo ministero rigetta l'istanza di concessione degli arresti domiciliari avanzati nell'interesse di Locascio Caspera Locascio Salvatore e Locascio Giuseppe decidendo sull'istanza di concessione degli arresti domiciliari avanzati all'udienza del 21 maggio 86 nell'interesse di Mangione Antonino ritenuto che il predetto imputato è stato riviato a giudizio di questa corte in ordine al reato di rapina pluriaggravata a sequestro di persona fortogravato e lesione colposi ritenuto che valutata la pericolosità sociale dell'imputato desumibile dai numerosi specifici precedenti penali per reati della stessa indole dalla gravità dei fatti dalle circostanze oggetto di contestazione rapina ad un vagone postale contenente valori per 740 milioni circa sequestro di persone eccetera nonché dell'entità e del numero dei reati attribuitili le esigenze di tutela della collettività allo Stato non appaiono salvaguardate dalla sostituzione della detenzione in carcere con quella della propria abitazione ritenuto che prima della conclusione della fase dibattimentale non possono formare oggetto di valutazione di elementi prospettati dalla difesa in quanto attinenti alla decisione di merito per questi motivi visto il parere del pubblico ministero rigetta l'istanza di concessione degli arresti domiciliari avanzata nell'interesse di Maglione Antonino relativamente poi alla richiesta della parte civile di lettura degli interrogatori di Salvo Antonino la Corte ritiene non utile né necessaria tale lettura poiché allo Stato naturalmente poiché la parte civile potrà procedere alla contestazione degli elementi risultanti dagli atti che trovano in processo senza bisogno di tale lettura possiamo riprendere l'interrogatorio di Salvo Ignazio abbiamo ricettato l'istanza di si si accomodi avvocato ah avvocato Casso voleva parlare non ho capito si si credo di si credo di si se il pubblico ministero non ha ma il pubblico ministero c'è prima la parte civile si mi pare che è venuto il turno della parte civile si possiamo senz'altro dare numero 84 numero 84 ha sentito la domanda in parte mi pare che in istruttoria ci sia una risposta non mi pare che ci sia una domanda mi pare che ci sia una domanda nel tal senso nei suoi confronti no? ma io ho detto mi pare non è un esatto di invenzione mi pare che avesse risposto comunque noi che facciamo adesso? ma il fatto che non sia stata fatta in istruttoria perché non è stata fatta in istruttoria non impedisce che ci sia una corto l'ultima che fosse stata fatta meglio ancora dunque la domanda è questa se lei se lei conosceva Santo e Salvatore in Serillo e se ho sentito parlare in particolare della morte di questo in Serillo signor Presidente non li conoscevo ho appreso la notizia della loro morte dalla lettura della stampa per lo meno di uno degli in Serillo non so c'è stato un omicidio che è stato un fatto eclatante nella città di Palermo non sento il microfono si se vuole parlare un po' più vicino al microfono mi può ripetere? no credo insomma la risposta grazie che lei non li conosceva è che aveva ho sentito parlare dell'uccisione di uno di questi in Serillo appreso dalla stampa ma perché succedono di questo? 80 84 lasciamolo acceso se 84 stamane se non ho male compreso l'imputato l'imputato ha detto di aver dato il nome di Giuseppe telefonando in casa Lopresti e parlando con Maria Corleo perché aveva saputo dell'arresto di Ignazio Lopresti e avendo avuto dei rapporti di affari non non intendeva essere in qualche modo mischiato vorrei Presidente che contestasse all'imputato che in realtà lui ha dato il suo nome Giuseppe nella mattinata del 24 giugno 81 alle ore 8.04 quando ancora non conosceva dell'arresto di Ignazio Lopresti considerato che alle 15.02 dello stesso giorno parlando sempre con la signora Maria Corleo e richiamandosi sempre come Giuseppe chiedeva se c'era l'ingegnere cioè l'ingegnere Lopresti ha sentito la domanda? no la domanda sarebbe questa come mai ha parlato di Giuseppe in questo senso penso è che facesse questa contestazione all'interno sì ma devo rispondere signor Presidente se crede credo che debba rispondere sul piano di un discorso logico mi si invita a questo cioè io ho saputo nell'ambito della famiglia Corleo dell'arresto dell'Opreste lì domani mattina lo cerco per sapere se è rilasciato e chiedo alla moglie di parlare con l'ingegnere Lopresti e che il motivo della mia telefonata fosse solo quello di sapere se l'ingegnere Lopresti era rilasciato era stato rilasciato lo testimonia il fatto che non l'ho cercato in ufficio perché appreso dalla moglie che il Lopresti non era in casa se fosse stato per altro motivo lo avrei cercato in ufficio ma agli atti del procedimento non c'è alcuna telefonata mia all'ufficio dell'ingegnere Lopresti Scusi Presidente se mi permetto di insistere in questa contestazione ma la mattina alle ore 8.04 l'imputato chiamandosi Giuseppe dicendo Giuseppe sono cerca dell'ingegnere e alle 8.04 cercando dell'ingegnere è da presupporre che non conoscesse sempre logicamente che conoscesse dell'arresto avvenuto perché infatti alle 15.10 dello stesso giorno ritelefona e nuovamente si qualifica Giuseppe e domanda ancora dell'ingegnere insomma la contestazione sarebbe questa cioè siccome lei ha detto stamattina che si era qualificato ingegnere perché sapeva di questo di Giuseppe si era qualificato come Giuseppe perché sapeva di questo arresto dell'ingegnere Lopresti ora l'avvocato Galasso contesta che lei darebbe la sensazione della telefonata di non aver conosciuto di questo arresto secondo ma c'è un argomento credevo di avere già risposto ma c'è anche un altro argomento che sta a testimoniare che io sapevo dell'arresto dell'ingegnere Lopresti per la prima volta quando inizio una telefonata dico sono Giuseppe mentre precedentemente non avevo usato mai questo nome e uso sono Giuseppe un altro nome perché io capisco che Lopresti essendo stato arrestato da quel momento il suo telefono è sotto controllo mentre prima con l'ingegnere Lopresti fino a poche ore prima del suo arresto parlavamo liberamente comunque Presidente prendo atto che almeno dal mio punto di vista non c'è una giustificazione di questo qualificarsi Giuseppe desideravo chiedere un'altra cosa e mi pare che stamane l'imputato ha detto di aver parlato con Ignazio Lopresti a suo tempo a proposito di un prestito o meglio di una restituzione di denaro che non sarebbe avvenuta di cui lui era stato informato in banca una rata di pagamento io vorrei chiedergli come mai in questa telefonata anzi in una di queste telefonate lui chiede se c'ha qualche cosa per lui e come mi sembra più naturale non gli domanda se di denari si tratta se ha pagato la rata quanto intende pagarla perché questa espressione se c'ha qualche cosa si avvocato seminario le do la linea senza altro mi dica ecco io vorrei richiamare l'attenzione di noi a quelle che sono le norme procedurali e sono carte procedurali queste avvocato abbiamo parlato di norme non dei capi no parla di norme che non ci facesse sentire l'avvocato dell'asso l'abbiamo percepito tutti ma che non sentisse neanche quello che dico io mi pare un po' che esagerare il mio discorso è di questo genere la signora vostra deve invitare l'avvocato di parte civile a far domande non a far commenti ai contenuti degli atti processuali domande specifiche a quali l'imputato risponderà certamente questa è la cortesia che sto chiedendo alla signora vostra nell'ambito del direttore del battimento e che le compete la domanda la vuole riformulare l'avvocato dell'asso credo di averla formulata in maniera abbastanza chiara il giorno 23 giugno 81 alle ore 7.44 Ignazio Salvo telefonava nuovamente a Ignazio Lopresti e diceva a un certo punto hai qualche cosa no stasera l'avrò va bene che fa mi richiama lei ti richiamo io domattina domattina verso quest'ora perfetto ciao buongiorno stamane se non ho capito male l'imputato ha detto che gli aveva telefonato per parlargli di questa mancata restituzione pagamento di una rata cui documenti era in grado di esibire io chiedo perché ha usato questa espressione hai qualche cosa stasera lavoro e non gli ha detto molto più semplicemente come mai non hai pagato la rata quando intendi pagarla mi pagherai mi darai quattrini stasera è una cosa molto più precisa del genere insomma l'espressione che lei ha usato la domanda sarebbe io ho capito la domanda e vorrei rispondere se mi posso rispondere quando io il 22 6 1981 telefono all'ingegnere Lopresti e chiedo hai qualche cosa certamente mi aspetto che l'ingegnere Lopresti abbia riscosso una somma di denaro e che me ne dia conferma e che questo qualche cosa ha questo significato lo dimostro per due motivazioni qualche cosa nella lingua italiana sta a indicare una quantità incerta variabile e indefinita certamente non un numero di telefono e un altro argomento voglio portare alla chiarezza per portare chiarezza a questa mia affermazione se quello ha qualche cosa e non è lingua italiana non è parlare fra due professionisti non saranno intellettuali non saranno uomini di cultura ma sono due professionisti era il numero di telefono dell'ingegnere del signor Roberto che secondo l'ufficio istruzione è il signor Buscetta il dottore Lopesti avrebbe dovuto chiamare Gaeta per chiedergli il numero di telefono di Buscetta la sera del 21 invece il signor presidente Lopesti chiama Gaeta la mattina del 22 dopo la mia telefonata mentre a me doveva dare la risposta la mattina del 22 e quindi non avendo fatto lui la telefonata Gaeta e agli atti del procedimento non c'è nessuna telefonata di Gaeta a Lopesti perché sia il telefono del dottore Gaeta sia il telefono del dottore Lopesti erano sotto controllo è chiaro che questa mia qualche cosa è per significato che ha nella lingua italiana e perché va inquadrata nel contesto del susseguirsi di queste telefonate non poteva che avere un solo significato quello relativo alle somme di denaro di cui darò documentazione le distinte di sconto le comunicazioni del Banco di Sicilia e anche i protesti va bene presidente prendo atto che per qualche cosa si intendeva queste somme di denaro le distinte eccetera un'altra un'altra domanda di altro genere volevo chiedere dato che tra l'altro la Corte non ha ammesso la lettura almeno finora degli interrogatori di Antonino Salvo se risulta all'imputato di un prestito che sarebbe stato concesso sarebbe intercorso tra Antonino Salvo e Salvatore Greco un prestito di 300 milioni probabilmente l'avvocato non è stato presente stamattina quando la signoria vostra ha svolto quell'indagine che ci ha pure convinto a presentare quei documenti da cui risultava che nell'ambito di questo prestito non era coinvolto Ignazio Salvo qui presente ma il figlio di Nino Salvo la signoria vostra vuole informarlo? si si va bene è stato sprecisato al dibattimento che questo Ignazio Salvo era il figlio non è questa la domanda io questo ho sentito benissimo io mi riferisco semplicemente al fatto se dati i rapporti di parentela e anche di affari che intercorrevano fra i due cugini per caso l'imputato fosse a conoscenza dell'esistenza di questo prestito tra Salvatore Greco e Antonino Salvo lei era a conoscenza di questo prestito ha avuto conoscenza di questo lo ha preso dagli altri istruttori signor Presidente cioè prima non ne sapevo niente un'ultima domanda Presidente ho concluso se sempre in relazione a questi rapporti di affari l'imputato ha avuto notizia del cosiddetto affare o acquisto riguardante il palazzo di vetro e se in particolare lui personalmente o gli costa che il cugino avesse stabilito dei rapporti d'affari o di altro genere con Carmelo Costanzo imprenditore di Catani non mi risulta niente signor Presidente ma beh ha già risposto l'imputato avvocato seminario non mi risulta niente risulta di questo affare del palazzo di vetro non ha interessato le società dei salvo questo acquisto del palazzo di vetro di vetro posso dire che non ha interessato le società dei salvo avrei preferito rispondere che non ha interessato le mie società ma sarebbe lieto di poter difendere se la legge me lo consentisse la memoria del mio cugino qua dentro non ci sono altre domande allora possiamo passare ah c'è sì sì avvocato dell'Aira 86 sì grazie dell'Aira dell'avvocatura dello Stato vorrei che chiedesse all'imputato se conosce il co-imputato greco Michele conosce il co-imputato greco Michele se avessi visto incontrato il signor greco prima che la stampa avesse pubblicato ripetutamente le sue fotografie certamente non l'avrei riconosciuto ma ho il vago ricordo e meglio me lo ricordava mio cugino che in una circostanza l'ho conosciuto in uno o due circostanze l'ho incontrato nello studio di mio cugino Nino alla Sattoria che era artigo al mio d'altronde io ero funzionario di questa Sattoria mi interessavo di problemi di Sattoria ricevevo il pubblico e in questo senso espletavo la mia attività vorrei che si contestasse all'imputato che il coimputato greco Michele ha dichiarato di aver fatto conoscenza dei signori salvo e l'episodio emerge a proposito del famoso prestito della Mercedes per il tramite di bontà di Stefano conferma questa circostanza mi pare di no dato quello che sta dicendo la domanda è in questo senso la conoscenza dei signori salvo quindi tramite bontate scusi chi l'ha detto questo il coimputato Michele Greco per quanto sia vuole indicare la data degli interrogatori e la circostanza l'interrogatorio io purtroppo non l'ho qui a disposizione signor Presidente perché in effetti la testa in aula è risulta che io devo dire la verità non ricordo siccome la domanda mi pare che l'abbia fatto io se riguardava la 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 l'affid il prestito della Mercedes riguardava per la verità Giuseppe Greco il suo Presidente Giuseppe Greco al figlio si ma mi riferisco all'interrogatorio mi riferisco all'interrogatorio reso dal coimputato Michele Greco è stato detto purtroppo la domanda è stata posta a Giuseppe Greco e anche a Michele Greco per la verità io le trascrizioni qua in questo momento in effetti quando ci sono queste domande sarebbe meglio essere documentate rinuncio alla domanda signor Presidente va bene riservandomi eventualmente premia acquisizione per la verità io ricordo che abbia parlato perché io gli chiesi lei conosceva Nino Salvo perché la Mercedes era di Nino Salvo e lui disse che lui lo conosceva che l'aveva conosciuto mi pare non mi ricordo sono sempre ricordi che possono essere fallaggi perché però effettivamente io chiedo scusa all'avvocato della domanda la situazione processuale su questo punto è ben chiara per uno che sta attento a queste posizioni comunque l'avvocato della Michele Greco interrogato da lei su questo punto ha detto no non ricordo di aver conosciuto Ghiaccio Salvo Ghiaccio Salvo in questo momento sta dicendo qualcosa di diverso rispetto a Michele Greco perciò non merita questa domanda che va rivolta al defunto ma se ci ha rinunciato ci ha rinunciato è per chiarire la conoscenza che alti processuali chiederebbe che ognuno possa contribuire il difensore ha anche il diritto di fare questi interventi per carità dicevo per la questione di rapidità perché ci ha rinunciato quindi la ringrazio vorrei ancora che si chiedesse all'imputato ricorda di avere trascorso a Palermo il mese di novembre del 1980 nonché i primi venti giorni del mese di dicembre e stamattina l'imputato ci ha mostrato i primi venti giorni i primi venti giorni dice lei era a Palermo nel novembre del 1980 i primi venti giorni del mese di dicembre non mi ricordo è probabile che sia stata a Palermo che perlomeno mi muovò spesso ma certamente in qualche giorno di questo così lungo periodo è probabile che sia stata a Palermo ma non 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 potrei chiarire a distanza di tanto tempo non mi trovo in difficoltà cioè non posso dare una risposta documentale la sua attività lavorativa lei la svolgeva a Palermo quindi come sta dicendo abbiamo una famiglia a Palermo è probabile che in un lasso di tempo di un mese anche se io vado spesso fuori sia stata a Palermo qualche giorno non so a quale parte della domanda devo rispondere no lei ha risposto a tutta la domanda lei ha risposto ho già risposto ha mai posseduto auto blindate auto blindate e se sì in che periodo personalmente non ho posseduto mai auto blindate in questo senso chiedo scusa posso continuare no 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 la domanda lei poi stava rispondendo personalmente non ho avuto mai macchine blindate perché dire personalmente perché non ho avuto mai macchine mie blindate la società Satres si metteva a disposizione di alcuni soci macchine blindate in questo senso ce n'era una anche a mia disposizione chi guidava questa macchina blindata? chi era l'autista addetto alla guida di questa macchina blindata? ma in genere sono io di ora in quale periodo non saprei rispondere posso formulare in termini diversi Presidente usualmente da chi era guidata questa automobile? non lo so come si chiama il mio autista il mio autista non ne aveva? ora in questo periodo ce l'ho da tre anni prima no? sì ogni tanto sì ogni tanto no io non ho avuto mai assunto ho nella mia casa o nella mia azienda un autista in quanto tale ho un collaboratore domestico che mi fa da autista che è tale Banane Raimondo l'autovettura era della Satris quindi risulta chi è il conto della Satris quindi quale dipendente della Satris no nessuno del dipendente della Satris mi faceva da autista perché volta poteva accadere che qualcuno mi ha se l'autovettura è blindata lei chiedo scusa non sono stato forse preciso io chiedo scusa facciamo interloquire l'Ambocato anche questa volta mi dispiace ma devo intervenire dando fastidio per precisare una circostanza quando si parla di autista di una macchina blindata della Satri agli atti processuali c'è un nome con un nome ben preciso si chiama ZAN e c'è una posizione ben precisa attivata dal giudice istruttore che è realizzata nel provvedimento di rinvio a giudizio nell'ordinanza che crea un rapporto ben netto tra quella macchina di guidatore e signor Cambria di Giuseppe e allora è inutile far pesare nell'ambito di queste domande le circostanze che attengono ad altre posizioni processuali ora ho capito il signor Giovanni Zancla non è del mio autista ora ho capito cosa vuole dire non è nero ed è chiaramente detto è chiaramente scritto e accetta chi assegnò lo Zancla all'esercizio di queste mansioni scusi ma io che ha segnato dato per scontato che era lo Zancla a condurre l'autovettura blindata di proprietà della Satris volevo che si chiedesse chi ha assegnato a queste mansioni il dipendente Satris Zancla non ho qui lo statuto della Satris per vedere i poteri all'interno della società come erano distribuiti ma ricordandomi che il dottore Cambria era il direttore generale della società ritengo che avesse i poteri potesse attribuire un autista un'ultima domanda in un settore diverso quello relativo alle concessioni esattoriali dalla deposizione resa dall'onorevole D'Angelo agli atti risulta a conferma proprio di quanto stamattina l'imputato ha indicato che lo stesso lamenta di aver subito un calo di voti di preferenza tra il 62 e il 67 pari a circa 10.000 preferenze e che questo calo a suo come sua ipotesi sarebbe attribuibile alle diciamo alla scarsa alla scarsa collaborazione fornita nei confronti di alcune proposte di legge riguardanti la SAGAP conferma questa circostanza o come spiega o ritiene visto che si tratta in sostanza di un'accusa nei confronti di manovre di tipo elettorale come spiega questa deposizione dell'onorevole D'Angelo considerato che l'onorevole D'Angelo cercherò di essere più brillo signor Presidente l'onorevole D'Angelo nel 62 effettivamente ha appoggiato ha appoggiato le norme in materia esattoriale dopo di che nel corso io direi che possiamo chiedere all'imputato che cosa ne pensa di questa di questa ipotesi dell'avanzato dell'onorevole D'Angelo se posso esprimere devo dire che l'elettorato a mio avviso ha fatto male perché l'onorevole D'Angelo è un uomo di notevole valore intellettuale e certamente culturale e morale ma che a me si possa attribuire responsabilità di un'elezione avvenuta in provincia di Enna mi sembra quanto mai strano debbo però precisare perché possa servire l'elemento di valutazione per un sereno raffronto che assieme all'onorevole D'Angelo in questa azione contro il salvo e le attività imprenditoriali da loro dirette c'era l'onorevole Vincenzo Chibinti uomo certamente di grande valore morale e di grande dirittura in quelle stesse elezioni in cui l'onorevole D'Angelo non fu eletto l'onorevole Chibinti per la prima volta fu eletto in provincia di Trapani al primo posto nella democrazia cristiana e con grande suffaggio quindi implicita la se possiamo completare la domanda dalla parte civile chiedendo all'imputato se ha dato ordine a 10.000 elettori di non votare l'onorevole D'Angelo no non l'ho data probabilmente non può più ordine probabilmente non può più ordine non è un 10.000 non mi pare che sia stata disconosciuta non è stata disconosciuta ma con partecipazione diciamo ideologica e un'ultima domanda come il prezzemolo sulla non poteva mancare no ma io dicevo questo in fondo l'imputato mi pare che abbia dato una risposta addirittura pertinente al regime elettorale diciamo poi la risposta non è per me è per l'onorevole D'Angelo è l'onorevole D'Angelo che ha avanzato questo sospetto non sono stato io comunque la risposta dell'imputato è un test sarà possibile eventualmente contestarglielo in questo sede un'ultima domanda se me la consente anche se investe un periodo in parte successivo a quello di cui si è parlato stamane però sia l'imputato che la signor Presidente hanno consentito appunto un dialogo allargato alle problematiche relative ai rapporti esattoriali fatta questa premessa è arrivato soprattutto quanto l'imputato ha detto stamane circa la convenienza per l'amministrazione della gestione esattoriale affidata alle società del gruppo salvo e per altro verso la scarsa produttività di questo rapporto la società era addirittura non veniva avvantaggiata da particolari agi esattoriali può dirci se ne è a conoscenza come mai la società ha accettato le prologhe dei scennari intervenute in base alla legge del 74 ma questa mattina ritengo che l'avvocato non fosse presente perché io non mi sono sognato di dire che la società era massacrata io ho detto e credo di essermi espresso nella forma dovuta che la condizione di gestione dell'esattore siciliano era meno favorevole della condizione di gestore dell'esattore del resto d'Italia siccome faccio l'imprenditore ho fatto l'imprenditore e lo so fare fino al momento in cui questa mia attività era redditizia nel momento in cui non lo fu più lasciai l'esattoria esatto e allora mi scusi presidente posso continuare quali sono state le cause che hanno fatto cessare la redditività se può dircele visto che abbiamo aperto un discorso su quest'argomento non ho capito per quale motivo c'è stata la redditività della della gestione dell'esattoria i contratti esattoriali mi deve scusare l'aridità del tema i contratti esattoriali all'inizio del decennio vengono fatti sulla base delle leggi operanti che condizionano sia l'amministratore l'amministrazione finanziaria sia l'esattore che il soggetto appaltante quando nel corso del decennio queste condizioni vengono modificate con un atto unilaterale dell'amministrazione finanziaria come è successo mi pare nel 1982 o 83 mi scusi sottraendo se mi consente vorrei che si desse tecnicamente una ricostruzione esatta non è proprio questa la ricostruzione dei fatti se io non ho parlato come vostri dicevi lei sta già parlando di innovazioni normative no io no 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 va bene allora mi scusi presidente chiedo scusa per l'interruzione forse è meglio lascerlo finire mi sembra io gradirei che poi nel momento in cui io nel momento in cui io vorrò dare dei chiarimenti su questo punto non mi si dica che anticipo la discussione ecco no no però facciamolo finire perché io non ho afferrato dove nel corso dell'appalto l'autorità finanziaria e per l'autorità finanziaria il partamento e lo stato e il ministero delle finanze hanno ridotto con un atto unilaterale unilaterale le entrate delle sattorie e specificatamente l'imposta sostitutiva che si pagava presso le banche faccio un esempio signor presidente se il cittadino ha 100 milioni di depositi bancari su questo deposito bancario percepisce un utile di 10 milioni di 10 milioni su questi 10 milioni la banca fa una ritenuta del 20% pari nel caso specifico a 2 milioni questi 2 milioni venivano versati nelle casse dell'esattoria l'esattore era l'incaricato dello stato per questa riscossione una legge del parlamento stabilì che queste ritenute fossero versate direttamente nelle casse dello stato ciò ha reso l'entrata dell'esattore ridotta nei confronti nei riguardi dell'entrata precedente nel resto d'Italia essendo le condizioni più favorevoli fu possibile all'esattore continuare a gestire in Sicilia dove si gestiva con dei guadagni ma certamente non quelli del resto d'Italia l'esattore non era più in condizione di gestire ed è stato per questo che noi abbiamo notificato con atto stragiudiziale alla Regione che non intendavamo più proseguire nell'appalto e che intendavamo chiudere l'esattore la domanda mi è stata utile per poter dimostrare come le condizioni di gestione degli esattori siciliani fossero meno favorevoli delle condizioni degli esattori del resto d'Italia io condivido il giudizio sull'utilità della domanda anche perché mi pare che non si sia risposto nei termini in cui devo proporla o perlomeno si sia risposto tralasciando il dato temporale e allora lo ribadisco quando si verificarono quelle condizioni che non rendevano più redditizia la gestione del rapporto settoriale perché fuori discussione quanto ci si viene a dire oggi che la riscossione di una serie di imposte passò poi attraverso sistemi diversi a una riscossione diretta ma quando questo è avvenuto posso dirlo io se me lo consente nel 1973 se non sbaglio comunque lo vuol dire lei quando questo è avvenuto se tengo nell'83 non ho qui l'atto stragiudiziale che abbiamo fatto alla regione nell'83 lo dico le condizioni quando sono variate le condizioni di gestione l'ho detto e quando al Parlamento varò questa legge e quando ha varato questa legge al Parlamento posso dirglielo io nel 1973 nel 1973 e allora signor Presidente io specifico meglio la domanda visto io ripeto non nei limiti in cui lei riterrà opportuno proporla come mai la società ritenne opportuno recedere dal rapporto nel 1982 quando le condizioni relative alla scarsa convenienza di gestione del rapporto si erano già realizzate nel 1973 la domanda è questa se naturalmente qui navighiamo sulle affermazioni del avvocato che fa la domanda no signor Presidente mi scusi sono anche le affermazioni dell'imputato che ha parlato di mutamento del sistema di riscossione no no su questo non c'è dovuto per i tempi per i tempi ma deriva dall'entrata in vigore delle nuove norme sulla riforma tributaria e dal mutamento del sistema di riscossione dell'IRPEF e delle altre imposte diretti evidentemente evidentemente l'avvocato con tutto il rispetto che ho per la sua scienza e conoscenza del diritto non conosce la legge sulla discussione sattoriale la legge a cui fa riferimento è del 1973 è il decreto unico in cui lo Stato aveva instaurato alcuni versamenti diretti per alcuni tributi e aveva stabilito che per altri tributi si procedesse sempre con cartelle e con ruoli ho detto nel corso di questo decennio in epoca poco poco antecedente ad oggi credo nell'82 sono venute meno alcune imposte venute meno alla riscossione dell'esattore ed è stato questo che ci ha dato il titolo per poter fare un atto stragiudiziario non è che abbiamo detto alla Regione noi ce ne andiamo perché le perdiamo non è più simpatico abbiamo detto alla Regione avete modificato la Regione per lo Stato i patti contrattuali e noi non ci stiamo Presidente io ho citato delle norme l'imputato che mi rimprovera di non conoscerle non mi pare che ne abbia citate delle altre e non mi pare peraltro che sempre come valutazione che ci siano intervenuti dei fatti dirompenti tali in epoca successiva che siano assimilabili a quanto può avere indirizzo subito quali sono i fatti di non vendita glielo dico subito così si persuade che quando nell'82 quando si varò questa legge signor Presidente il Banco di Sicilia e la Cassa di Risparmio che versavano circa 30 miliardi attraverso l'esattoria con un agio del 6,72 sì 30 miliardi con un agio del 4,80 ora non ricordo più con questa legge questi 30 miliardi non entrarono più nelle casse dell'esattore e quindi fatto il calcolo di quello che era l'incidenza abbiamo scoperto che l'incidenza di questa imposta sostitutiva era così determinante per il bilancio della società che potevamo portare i libri al tribunale per chiedere il fallimento sì non è questo il punto il punto è che l'avvocato dell'Aida dice ma questo è avvenuto nel 72 no è sbaglio perché è avvenuto nell'82 quindi si vede che lui si fa riferimento a un intervento io ho fatto riferimento all'imposta che c'è stata pure sottratta all'imposta che c'è stata pure sottratta avvocato Seminari le normative del 73 in cui fa riferimento l'avvocato e fanno parte della famosa riforma tributaria che come lui ben dice hanno diviso le imposte pagabili con versamenti diretti o pagabili mediante ruoli esattoriali la legge a cui faccio riferimento io che ha reso impossibile per noi gestire le esattorie è dell'82 se non addirittura dell'83 e qui si sono dati i normativi che si possono non è che dobbiamo fare la discussione di cui no ci mancherebbe Presidente ma chiedo scusa facciamo parlare all'avvocato Seminari che vuole intervenire scusa Presidente sono l'avvocato Seminari vorrei spiegare un po' la situazione io credo che un po' l'avvocato dell'Aida stia parlando ad orecchio cioè egli sa perché ad orecchio sa che non parlo ad orecchio ad orecchio ad orecchio perché egli sa che vi è un contenzioso instaurato a tutti i livelli fra le esattorie e lo Stato nella sua in genere e comprende sia la regione sia le amministrazioni finanziarie sa che ci sono stati altri stati giudiziali sa che ci sono stati imposizioni ma sa tutto questo che farà parte probabilmente di una consulenza che l'avvocato dello Stato magari sarà questo argomento è totalmente estraneo questo sì avvocato Seminari mi scusi quest'ultimo argomento è totalmente estraneo dal giudizio non è vero l'ultimo sì ma dobbiamo fare l'avvocato dell'Aida non è che dobbiamo fare quando abbattiti stiamo facendo delle domande non riuscivo a immaginare che avesse informazioni raccolte nelle piazze immaginavo che fosse nell'ambito della competenza dell'avvocato dello Stato così io chiedo alla signoria vostra la cortesia della signoria vostra di concedermi la possibilità di portare davanti alla corte tutto il martigiale che riguarda la storia dei rapporti stati e amministrazione finanziaria è una raccolta di cui io sono detentore non potevo immaginare che la problematica ripeto che incide su altre sfere su altri motivi poteva fare oggetto di tanta attenzione non incide sul processo ve lo rendo conto ma noi siamo pronti a soddisfare anche le curiosità di noi ma in questo piano per la disposizione di tutto il materiale che ho io è notevole che sarebbe sufficiente parere di tutti gli avvocati di questo mondo amministrativo e competente nella materia penso che alla corte farà piacere averli e a collegere e a consultarle per avere una visualizzazione della materia basterebbe limitarsi a indicare i dati normativi mi pare sì ma non sono io a doverli indicare no 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 non parlo io non sto dicendo a lei io sto prendendo l'avvocato che vorrebbe portare tutta la documentazione se mi concede permesso io domani mattina lo faccio perché il materiale è già pronto per altri motivi sì dico ma basterebbe indicare i dati normativi per risolvere queste le questioni attinenti a queste domande mi sembrerebbe come ne possiamo riparlare pochissime domande vorrei sapere dall'imputato quante fossero le esattorie siciliane che facevano capo alla Satris o ad altre esattorie appartenenti al gruppo Salvo Corleo Cambria all'incirca se non le dispiace vuole ripetere la prima parte vorrei sapere quante fossero all'incirca le esattorie che facevano capo in Sicilia allo stesso gruppo Salvo Corleo Cambria Satris o Sogget o altre esattorie che facevano capo al gruppo all'incirca vuole conoscere l'imputato stamattina ha detto di essere stato molto legato col cugino quindi penso che approssimativamente almeno potrebbe darci una visione del fenomeno sì ma il legame passava attraverso i nostri rapporti effettivi non attraverso la conta delle esattorie quindi lei non è in grado di dircelo no non sono in grado allora ci dica quelle che facevano capo alle società di cui lei risponda allora a quella parte esattorie fino al 1965 66 le esattorie che facevano capo alle società alle quali io sono interessato era una quella di Palermo dal 1966 per alcuni anni abbiamo avuto una gestione esattoriale di altri 30 40 non ricordo bene esattorie che ci furono concessi in delegazione governativa in una gara di appalto e di cui ho parlato questa mattina ampiamente a proposito di alcune osservazioni scritte sull'ordinanza successivamente una parte di queste esattorie furono date in appalto ad altri esattori e una parte furono affidate alla Satres non ricordo evidentemente il numero nel corso degli anni altre esattorie furono affidate dalla Satres alla Satres dal governo regionale ma c'è un motivo non perché la Satres le avesse chiesti perché la regione siciliana non volendo dare più esattorie in delegazione governative chiese a noi Satres e credo che ci sia qualche cosa nella deposizione dell'onorevole Mannino in questo tempo di gestire queste esattorie non so il numero più quant'erano anche se erano in perdita noi a quell'epoca ritenendo che poteva essere utile ai fini gestionali e ai fini della prospettiva anche se in perdita gestire queste esattorie li abbiamo accettati nel complesso ritengo ritengo che le esattorie Satres dovessero essere alcune decine in 40 50 ma certamente domani mattina le posso portare l'elenco preciso di tutte queste esattorie potrei elencarle forse se le elenco me le ricordo ma così a dire un numero preciso non me le ricordo ma la domanda supponeva una risposta non so ma sapere se di fatto una buona fetta della risposta in Sicilia fosse gestita da queste esattorie confusione non è una domanda io ho detto non ho tirato confusione ho detto cosa mi interessa ma avvocato avvocato seminario ma anche lei ha fatto delle considerazioni anche lei anche lei ha fatto delle considerazioni io ho piettato non ho fatto considerazioni presidente io non capisco il comportamento del collega visto che io non mi sono ben guardato dall'intervenibile mentre parlava l'imputato ho chiesto ho detto anche che mi bastava la risposta e ho detto perché qual era quello che io mi aspettavo questo riguarda me e non riguarda altri volevo fare un'altra domanda l'imputato ci ha offerto questa mattina un diciamo un alibi per quanto riguarda la sua il periodo compreso tra il 22 dicembre e i primi di gennaio il 21 dicembre 80 e i primi di gennaio 81 diciamo l'impossibilità fisica di trovarsi però Buscetta ha detto di essersi trovato nella villa di Nino Salvo nel periodo antecedente al periodo natalizio e nel periodo delle feste natalizie nel quale fu raggiunto dalla famiglia ha anche detto Buscetta che Nino e Ignazio Salvo venivano a trovarlo quando era solo non quando era con la famiglia ed è intuibile anche il perché vorrei sapere se l'imputato dispone di un analogo alibi per il periodo in cui Buscetta era solo ed è il periodo in cui Buscetta dice di essere stato visitato il periodo specificiamo il periodo antecedente al 22 dicembre è il periodo in cui Buscetta dice di aver ricevuto è stata fatta una domanda su questo punto poco fa voglio sapere se è un alibi se lei può escludere darci prova di questa impossibilità se possiamo smentire Buscetta perché dal 22 dicembre in poi non ci interessa Presidente perché Buscetta ha detto che non ci sono andati ma la domanda era nel periodo di novembre fino al 20 dicembre e l'imputato ha detto può darsi che ero a Palermo comunque l'avvocato Seminari dica pure sono costretto sempre a rilevare errori di fatto che i colleghi pongono a base delle domande Buscetta qui davanti a voi su domande esplicite dell'avvocato Paolo Seminari e penso sentite con le attente orecchie dell'avvocatura dello Stato ha riferito di essere stato nella villa di Zagarella soltanto del periodo natalizio e riferimento a un periodo di tempo ben preciso dal giorno 21 o 22 fino al giorno in cui è partito tutte le conoscenze tutti i rapporti vanno riferiti a questo periodo se questa circostanza sfugge a collega lo prego di riguardare i colleghi di battimento il legge si è dichiarato di Buscetta senza allargare un discorso con situazioni di fatto errone non corrispondenti alla realtà storica per il discorso di questo dibattimento la Corte vorrà correggere l'errore del collega richiamando gli atti della dichiarazione di Buscetta e precisando questo punto che appare su domanda espressa di questo difensore ringrazio ringrazio l'avvocato del suggerimento però Buscetta dice comunque verso la fine del 1980 ed in occasione delle feste natalizie ho alloggiato continuativamente nella villa dei Salvo faccio presente che sia Nino che sia Ignazio Salvo venivano a trovarmi in villa ho citato quindi esattamente la dichiarazione di Buscetta ma questa dichiarazione è evidente io per me per averlo l'imputato e non l'avvocato seminario seminario con cui posso parlare anche fuori dall'aula eventualmente comunque il difensore può anche opporsi alle domande questo mi pare ovvio ma siccome con me io non mi assolutamente dicevo questo io ponga prima però non dopo però vogliamo precisare questa dichiarazione è quella istruttoria quella istruttoria l'avvocato seminario fa riferimento a una dichiarazione di partire evidentemente ci riferiamo a cose diverse Presidente un'altra domanda vorrei capire a questo punto abbiamo interesse noi alla risposta perché la domanda deve essere questa si è mai incontrato Buscetta e dove lo ha incontrato da novembre fino al 21 dicembre questa è un'altra domanda non mi oppure se la Corte la ammette l'imputato può rispondere poi si verificherà se è una domanda pertinente o meno se c'è un equivoco di fatto da parte della Corte non mi oppure questa domanda che è diversa dalla mia io devo giudicare sulla domanda postamente non ammette la domanda dell'avvocato Mancuso io però desidererei che fosse una domanda documentata sugli atti e cioè sugli atti istruttori non solo sugli atti istruttori ma siccome si è fatto riferimento anche a una dichiarazione dibattimentale sarebbe meglio che la riscontrassimo anche se in sede di dibattimento il budget ha detto la cosa Presidente gli atti dibattimentali non li ho in questo momento presenti mi pare che tutto il materiale raccolto faccia parte del processo e vada valutato certamente ma potrebbe esserci una modifica così possiamo contestare le due versioni se ce ne fossero io per la verità con precisione ma io devo dire che come pubblico ministero ritengo di avere ottime orecchie ma non ho un'altrettanta eccellente memoria ricordo quindi che al dibattimento di questa vicenda se ne parlò ma non ricordo se Buscetta disse cosa diversa da quella che aveva detto un istruttorio eccetto però che la lettura del verbale istruttorio che d'altra parte è stata attestefatta dall'avvocato Mancuso è esatta e corretta quella lettura emergerebbe che dalla lettura del verbale dibattimento va fatta la lettura per poter ricordare tutti meglio certo questo io vorrei ogni modo in istruttoria lui disse verso la fine del 1980 e e poi è in occasione delle pezze natalizie cioè è in occasione in questo periodo lei ha visto io non ho incontrato mai Buscetta signor Presidente né in questo periodo né in altro e può dimostrare anche in questo periodo di non averlo visto questa è la domanda non l'ho mai incontrato signor Presidente posso dichiararlo semplicemente però devo dire che siccome io sono quello che conosco ritengo queste cose perché le vivo sulla mia pelle vorrei chiarire che Buscetta nella sua prima disposizione nella sua prima deposizione disse esattamente quello che diceva l'avvocato verso la fine del 1980 e nelle feste natalizie e nelle feste che natalizie è chiaramente una chiarificazione e che poi in aula su domanda specifica chiarì che questo verso la fine del 1980 e le feste natalizie significava 21 dicembre 2 gennaio e che su domanda del Presidente il Presidente Vossignoria chiarì meglio 21-22 dico questo perché avevo io anch'io un vago ricordo però evidentemente perciò bisognerebbe avere sempre gli atti alla mano in maniera comunque indubbiamente lei esclude di averlo visto non l'ho mai incontrato voleva sapere però avvocato Mancuso se per il periodo precedente avesse ulteriori elementi di prova contrarie come quelle che ha avuto per questo non l'ho incontrato Presidente va bene Presidente ora ora in udienza dibattimentale l'imputato ha chiarito perché nelle telefonate del 24 giugno si fosse qualificato Giuseppe e cioè per il motivo senz'altro plausibile del timore di essere in qualche modo coinvolto nell'arresto di Ignazio Lopresti devo dire che però l'arresto di Ignazio Lopresti questo per precisare avvenne in quella data cioè avvenne nel pomeriggio del 24 mentre il giorno precedente Lopresti era stato soltanto convocato in questura comunque non è questa la domanda perché nell'interrogatorio testimoniale dell'8 luglio 83 l'imputato dato che aveva questa scusa così plausibile che oggi ci ha dato risponde escluso escludo categoricamente o meglio non ricordo avere mai telefonato a casa di Ignazio Lopresti qualificandomi come Giuseppe poi a ulteriori contestazioni dice io comunque non ricordo può essere che l'ho fatto ma non ricordo niente come mai se ora ha positivi del ricordo in quel momento prima tendeva a escluderlo drasticamente e poi comunque escludeva di avere qualsiasi ricordo di un episodio così così lineare quello è l'interrogatorio istruttore come testimone senza giuramento dell'8 luglio 1983 1983 sempre per correggere eventuali errori combinati dalla difesa evidentemente l'avvocatura dello Stato dimentica che c'è un successivo interrogatorio nel corso del quale si lo stavo per dire io il signor Dottor Salvo dell'11 luglio a sentire le bobbili a riconoscere la sua voce e perciò a riconoscere l'interlocutore di quella utenza io vorrei bastava arrivare là perché a Cimenti non è lo stile di cui mi capisco io perché leggere una parte soltanto non c'è tutto l'interrogatorio di chiacchione io gradirei che lei intervenisse invitando l'avvocato Seminara o a opporsi alla domanda o a non sovrapporsi all'imputato perché ho fatto una domanda all'imputato gli ho chiesto come mai l'8 luglio non si ricordasse che si sia ricordato successivamente non è dubbio nessuno l'ha negato l'abbiamo visto anche qua che ora si ricorda appunto perché successivamente si è ricordato con tanta chiarezza di un episodio così significativo mi meraviglio e gli chiedo se può giustificare come mai non se ne ricordasse l'8 luglio quando era soltanto testimone questa è la domanda se lei ritiene di porla la ponga se non ritiene di porla non la ponga però la prego di impedire che la difesa avversaria impedisca al test impedisca all'imputato di rispondere e questo non è questione di stile sì sì no un po' non andiamo lei si può opporre però non deve suggerire eventuali risposte perché altrimenti comunque la domanda dell'avvocato Mancuso è limitata soltanto io stavo cercando il punto in cui si parlava di questo ecco perché non mi pare che sia il caso di guardi la saggezza dell'età seppur si può costruirmi porterebbe a considerare possibile un solo errore ma quanto della costanza della ripetizione delle domande si chi si trova di fronte a delle scelte in cui non si vuole far sapere alla corte che l'otto luglio c'è un interrogatorio ma l'undici luglio ce n'è un altro ma la corte lo sa sia un motivo di dire a questa corte guardate che questa domanda se è passata sull'interrogatorio dell'otto luglio poteva essere ma c'è quello che non dice luglio sicché non si può attribuire comportamenti e significati diversi da quelli che dovranno risultare dal successivo interrogatorio comunque una domanda sull'interrogatorio dell'otto luglio è ammissibile e pertinente perché l'imputato sa benissimo e tra l'altro bisogna riconoscere che l'avvocato Mancuso ha fatto espresso di che io stavo semplicemente cercando il punto per corroborare la domanda con gli altri insomma comunque lei nell'interrogatorio l'otto luglio sostanzialmente disse di non avere mai telefonato come Giuseppe qualificandosi come Giuseppe a casa dell'ingegnere Lopresti quello che è avvenuto poi lo può dire anche lei ma dico intanto perché dice nell'interrogatorio dell'otto luglio al quale era presente tra l'altro un magistrato che è presente in quest'aula io dissi di non ricordare di avere fatto questa telefonata perché non mi ricordavo e pregai il giudice Falcone che in ogni circostanza mi manifestò sempre la sua benevolenza di farmi sentire la telefonata il giudice Falcone mi fece sentire la telefonata non ricordo quando mi rimandose lo stesso giorno e io appena sentita la telefonata ho detto devo riconoscere questa è la mia voce non ho detto non è la mia voce facciamo una perizia ritengo che il motivo sia questo e ho chiarito qual era il motivo anzi ho dato due motivi allora perché non avevo la documentazione che poi ho acquisito nella ricerca nei miei uffici ho detto può darsi che abbia dato questo nome o perché sapevo perché era arrestato o perché avevo la preoccupazione che mi si negasse una volta che ero creditore ma fin dal primo momento accennai a questa possibilità tenuto conto che erano passati anni che io ero un imprenditore operoso che di telefonate certamente ne facevo centinaia e che di vicende economiche ne avevo anche altre oltre a quella dell'ingegnere Lopresti Presidente l'ultima domanda questa mattina l'imputato ha chiarito di non avere mai assunto presso la satris o provocato l'assunzione presso la satris di elementi mafiosi di non avere avuto quindi non avere favorito in nessun modo elementi mafiosi e interpreta la frase contenuta a pagina 3 dell'interrogatorio del 17 novembre 84 nel senso che egli si riferiva a Nino Salvo e si riferiva al fatto che Nino Salvo avesse ospitato Tommaso Buscetta nella villa di Casteldaccia se non che nello stesso interrogatorio in apertura egli dice di non avere mai saputo che Nino Salvo verso la fine dell'80 avesse ceduto la villa di Casteldaccia a Buscetta quindi la frase non può essere riferita a Nino Salvo se poi la leggiamo mi pare che abbia un senso univoco perché dice non sono non sono io che parlo cioè il dottore Ignazio Salvo non sono mai stato mafioso ma sono uno dei tanti imprenditori che per sopravvivere ha dovuto scendere a patti con i nemici della società ecco io volevo sapere se può chiarirci un po' la natura di questi patti in che cosa si concretavano si ma guardi che la domanda è stata rivolta dal giudice all'autore stamattina proprio negli stessi temi si ma è stata riferita a Nino Salvo questa mattina non è possibile riferirla a Nino Salvo no no riferita a Nino Salvo riferita a Ignazio Salvo la giustificazione è stata riferita da Ignazio Salvo a Nino Salvo non è impossibile intenderla così quindi voglio sapere quali sono i patti che direttamente l'imputato ha avuto dal momento del mandato di cattura avendolo letto non ho letto la sfilza di nome ma avendo letto il mandato di cattura a me apparve evidente che quella villa che mio cugino Nino aveva dato in uso nel 1980 era la villa indicata come proprietà di disponibilità mia e di mio cugino Nino data in uso a un latitante nel caso specifico Buscetta perché appena ci siamo seduti con il giudice Falcone questo fatto si venne a chiarire quindi io sapevo che quella villa era la villa oggetto motivo non oggetto motivo del mandato di cattura nei confronti di mio cugino Nino quando io ho detto che non so a chi ha dato la villa come ho chiarito dopo non l'ho detto per nascondere per cercare di non aggravare la posizione di mio cugino Nino ma dalla lettura del mandato di cattura a me fu chiaro che si faceva riferimento alla vita di Zaccarello sì ma la domanda continua sotto questo profilo dico siccome lei ha parlato di scendere a patti ed è una cosa di cui parlava facendo riferimento a questo ho detto che facevo chiaramente riferimento a questa vicenda di mio cugino Nino io non avevo vicende personali di cui lamentarmi o di cui è uno dei tanti che è dovuto scendere a patti se lei vede questa mia dichiarazione nella parte precedente è in terza persona perché proprio si riferisce e poi finisce in prima persona perché è uno sfogo di fronte a una vicenda in cui mio cugino Nino era drammaticamente coinvolto Presidente evidentemente la risposta non mi può soddisfare ma mi astengo dall'insistere ne prendo atto ultimissima domanda volevo sapere se l'imputato ha fatto uso del nome Giuseppe soltanto in quelle due telefonate o nella sua vita altre volte se lei ha operato in altre telefonate il nome Giuseppe nessuno vi conosce per Giuseppe qualcuno per Nicola ma per Giuseppe nessuno va bene Presidente d'altra parte senta io volevo chiederle siccome lei ha parlato di un prestiti rilevante all'ingegnere Lopresti volevo chiederle questo ma l'ingegnere Lopresti dal punto di vista commerciale navigava in tattive acque perché era dovuto ricorrere aveva dovuto fare ricorso a questi prestiti ma l'ingegnere Lopresti era un imprenditore ribacce e io si tenevo capace poi aveva dei rapporti di parentela che meritavano da parte mia la massima attenzione e dico il massimo affetto per non dire il massimo rispetto e quindi dove potevo lo aiutavo evidentemente quando lo aiutavo essendo un imprenditore non potevo mai intuire che il Lopresti potesse fare dal punto di vista imprenditoriale a questa fine e devo dire che tuttora ne sono sorpreso certo a tutti succede nella vita di sbagliare ma devo ammettermi che in questa vicenda mi sono sbagliato sulla valutazione delle capacità imprenditoriali dell'Opresti il quale peraltro era un uomo di grande vivacità di intelligenza e di notevole abnegazione al lavoro ma lui quando le chiese questi prestiti le confidò di essere in una situazione come signor Presidente i prestiti miei con Lopresti non è che vengono e qui ho questa questa distinta di sconto del marzo venivano dagli anni precedenti una volta veniva aveva bisogno di 20 milioni un'altra volta di 30 milioni ed io lo aiutavo perché Lopresti era una persona veramente simpatica oltretutto e da questo punto di vista era capace di conquistare delle persone e aveva un notevole tratto umano a questo si univa il fatto che era sposato con una persona la cui famiglia mi era cara e tutti lo aiutavamo ci sono ah sì 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 no mi scusi qua qua 8 o 4 sì desidererei che il Presidente rivolgesse l'imputato la seguente domanda se non ricordo male e spero di non ricordare male soprattutto per non suscitare le ire dell'Avvocato Seminara ed anche per evitare di essere accusata di parlare ad orecchio cosa che pare sia successa per il collega per il collega che mi ha presciuto anche se in questo caso è proprio una questione di orecchio perché spero io non avrei sentito male stamattina il salvo avere detto di avere vissuto a Salemi fino al 64 e di essersi trasferito a Palermo e quindi di aver iniziato la sua attività imprenditoriale in riferimento alla Satris dal 64 in poi se è giusta questa mia nozione desidero sapere in questo lasso di tempo cioè fino al 64 egli ebbe modo di conoscere Zizzo Salvatore a Salemi senta per favore il connome Avvocato Garofalo operita dalla Chiesa io abitavo a Salemi lei abitava a Salemi fino a quando? fino al 64 fino al 64 veramente fino all'epoca del matrimonio fino al 66 67 ma facevo riferimento anche dopo al mio paese d'origine io abito a Salemi che è un paese di 14.000 abitanti in cui abitava Zizzo Salvatore io conoscevo Zizzo Salvatore come lo conosceva il maresciallo dei Carabinieri il magistrato del luogo il medico condotto e tutti i cittadini di Salemi più in vista anche perché a Salemi la signora forse non c'è mai stata ci si incontra tutti in una piazzetta no no ci sono state ci si incontra tutti in una piazzetta e lì in quella piazzetta ognuno sa dell'altro se è galantuomo se è mafioso o se è persona per bene le assicuro che in quella piazzetta ci stavo io pure e nessuno mai dei miei concittadini ha pensato che io fosse un mafioso ad ogni modo conoscevo Zizzo Salvatore era mafioso lei mi sta dicendo che là si sapeva tutto di tutti quindi forse poteva anche sapere questo Zizzo Salvatore lo diceva la stampa una volta uscì un titolo l'imperatore della Sicilia quindi vuole che non lo sapessi io lo sapeva tutta la Sicilia quindi lei lo sapeva non per averlo letto sul giornale ma almeno io ripeto anzi desumo da quello che ha detto lei prima che l'ha dovuto sentire anche in piazza l'avrebbe dovuto sentire in piazza il giornale lo leggiamo tutti ah mi scuse Presidente va bene comunque veramente aveva dato una risposta diversa se lei ha ascoltato si ho ascoltato io non mi pare che la cosa altre domande? no no io volevo insistere volevo capire perché io mi sto rifacendo a quello che il dottore Salvat ha detto ha detto che era un paese di 14.000 abitanti e io ci sono stata ma non li ho conti comunque era un paese di 14.000 abitanti un paese quindi piccolo dove si stava sempre in piazza cioè capitava di stare in piazza e stando in piazza si sapeva praticamente tutto degli altri e il dottore Salvat appunto ha detto si sapeva se qualcuno era mafioso quindi io gli so ed insisto mi permetto di insistere se lei riterrà opportuno di insistere a sua volta nel porre la domanda per sapere se il dottore Ignazio Salvo sapeva se Ditto Salvatore fosse o meno mafioso partendo dall'assunto che lo conoscesse se lei ritiene naturalmente lei ha risposto se vuole precisare tutto quello che ha già detto e rispondere oltre alla stampa qualcuno l'aveva detto che era mafioso perché bisogna vedere quello che ha detto l'imputato in merito alla conoscenza che poteva avere delle persone è quello che poteva apprendere dalla stampa la domanda comunque è precisa lo sapeva anche dai suoi concittadini si possa condensare così la sua domanda sì sì Presidente lei la ponga come ritiene opportuna io voglio interpretare il suo sì sì ed era questa la domanda cosa sapevo signor Presidente mi scusi non ho che cosa è che Zizio era mafioso si diceva che Zizio era mafioso ma questo io non l'avevo negato avevo detto che lo avevo appreso anche dalla stampa va bene anche dalla stampa la domanda era soltanto questa niente di tendenzioso volevo capire io appunto desideravo porre un'altra brevissimente un'altra domanda se l'imputato ha avuto a modo di conoscere Giuseppe Di Cristina e mi riferisco a Giuseppe Di Cristina che è morto il 30 maggio del 78 per amore di precisione di Riesi di Riesi sì ha conosciuto no non ha avuto mai modo di conoscere non so se il Presidente vi tiene di porle la domanda se può in qualche modo capire o spiegarci o farci capire come mai furono trovati nel tacquino di Giuseppe Di Cristina tutti i numeri di telefono a riferentesi sia alle società che alle utenze personali quanto meno di Nino Salvo sei in grado di spiegarlo che può darsi che non lo sapesse di Nino Salvo soltanto di Nino Salvo e della Satris degli uffici perché furono trovati sette numeri telefonici riferentesi a sette utenze alcune delle quali erano appunto delle società della Satris dei vari uffici Avvocato Seminari è un'opposizione ragionata pare che sappia tutto la collega sappia che sono i nomi di Nino Salvo e sa che sono i nomi della Sattoria io non so niente lo leggo quello che leggo dall'ordinanza e corrisponde alla realtà storica che c'entra lui con Nino Salvo non c'entra però la Satris la Satris ma la collegamento è diretta in questo senso sì Avvocato Seminari mi scusi io sto chiedendo se è in grado di fare una spiegazione se è in grado di fare che io non lo sto obbligando a rispondere né il Presidente è obbligato a porre la domanda io sto semplicemente chiedendo se mi può illuminare su questa situazione se può farlo se non può farlo non c'è problema vorrei dare una spiegazione perché c'era il numero della Satris annotato in questi tacquini di Cristina può dare anche signor Presidente io no ma mio cugino l'ha dato e c'è una deposizione di mio cugino in questo senso agli atti del procedimento dal momento che appunto non è stata data lettura io non ho preso conoscenza appunto per questo lo chiedevo no no non all'atti del procedimento non li ho non ho detto nell'interrogatorio va bene lei mi ha risposto io la ringrazio per la sua corcessia desideravo sapere anche se l'imputato conosce Gaeta Carmelo Gaeta Carmelo sì l'ho incontrato una volta e sa i rapporti che lo stesso ha con il Presti aveva aveva sì non lo so ho letto dagli altri che erano soci a quanto pare ma sono vicende che non mi riguardano quindi non sa altro su questo poi desidero sapere se conosce personalmente l'onorevole Salvo Lima non l'ho capita la domanda desidero sapere se conosce se lei conosce personalmente l'onorevole Salvo Lima signor Presidente io sono stato iscritto alla democrazia cristiana dalla fine degli anni 50 fino al 1983 e in tutto questo periodo spesso ho partecipato a tutti i congressi provinciali della democrazia cristiana anche se da spettatore della mia provincia e a quelli anche il regionale in quella circostanza avevo modo di ascoltare e di conoscere la classe dirigente del mio partito o per lo meno gran parte della classe dirigente del mio partito e di apprezzarla uno di questi era l'onorevole Salvo Lima certamente lo conosco come conosco gran parte dei dirigenti della democrazia cristiana della Sicilia come conosco scusi ma non ho sentito l'ultima parola ma gran parte dei dirigenti e desidero sapere ed è l'ultima domanda non le chiedo più niente se conosce il dottore Flanda Carlo Flanda dottore Carlo Flanda credo di no quindi non sa nulla di un colloquio che sarebbe avvenuto con l'onorevole Lima a proposito di Flanda no? questo Flanda chi è? è un signore si chiama Carlo Flanda è un dipendente potersi ma non capisco non ricordo non lo conosco non ricordo non lo so dicono chi è? conoscherò io per motivi del mio ufficio per esempio di chiedere a me se conosco una persona è un problema problematico io per diversi anni alla settoria di Palermo ricevevo il pubblico allora ho ricevuto migliaia e migliaia questo Carlo Flanda è un contribuente di Palermo che è venuto aveva un problema io gli ho detto qualche cosa e può darsi in questo senso che lo abbia anche conosciuto ma se conoscenza significa un rapporto di dimistichezza questo non c'è con questo Flanda ho risposto va bene grazie Presidente perché l'equivoco creato dall'avvocato Carofalo fa sì che il dottore Salvo stia pensando che Flanda si debba inserire nel quadro di un rapporto di esattoria comunque esattamente io non ho creato nessun equivoco ho semplicemente chiesto che non ha guardato gli atti processuali che sulla storia Flanda la problematica è diversa è un'altra e che ne rispondono salvo io non ho creato nessun equivoco ed è ed è vado dire che io ho creato un equivoco io ho semplicemente chiesto se poi l'equivoco si è creato all'interno della memoria del 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 dottore del dottore Salvo io non ci posso fare niente comunque grazie altro difensore di parte civile che numero avvocato Limuti 7-9 una sola domanda molto semplice se ha erogato somme o effettuato finanziamenti a partiti o a uomini politici ha fatto erogato delle somme finanziamenti a partiti politici dal 1900 si parla di me di lei mai in ogni circostanza mai né partiti né uomini politici era una domanda personale cioè si rivolgeva all'imputato sì 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 all'imputato Presidente no vorrei capire l'imputato non soltanto come persona ma anche per quello che rappresentava come società ovviamente sì sì cioè sia a sua conoscenza è chiaro questa scissione escludo che le società alle quali sono stato interessato abbiano mai finanziato partiti o uomini politici allora ci sono altre domande a pubblico non avvertissi fino in fondo il peso della responsabilità del mio ruolo farei veramente ammenda le domande che avevo programmato di fare tuttavia ripeto per coscienza ritengo per fare fino in fondo il mio dovere che purtroppo a qualcuna mi auguro il minor numero possibile di questo non posso rinunziare desidererei sapere posto che è scontato che la Satris possedesse più di un'auto blindata la ragione per cui la società aveva acquistato il denuto opportuno acquistare le auto blindate come mai questa Satris aveva acquistato le auto blindate lei mi ricorda un elemento doloroso perché era stato sequestrato l'esattore Corleo che era un dirigente della Satris in quella circostanza la società acquistò e poi rinnovò nel tempo diverse macchine blindate desideri sapere se l'imputato è a conoscenza che una di queste autovetture venne affidata in uso all'onorevole Salvo Lima è vero questa nessuna macchina della Satris è stata mai data all'onorevole Salvo Lima leggo il verbale di interrogatorio di Salvo Antonino mi dispiace dovrei leggere il verbale di un morto ma purtroppo scusi se la interrompo mi è consentito mi ha chiesto se la Satris avesse dato la macchina a Salvo Lima la Satris mai io non so la domanda la domanda le posto in questi temi esattamente il concetto è allora posso anche riproporre la domanda in maniera che poi lei possa rispondere in maniera più corretta se le risulta se risulta all'imputato che una autovettura intestata alla Satris una delle macchine blindate alla Satris fosse in uso dell'onorevole Lima non mi risulta che fosse in uso dell'onorevole Lima mi risulta che l'onorevole Lima è fraterno amico del dottore Cambria che ha una di queste macchine blindate e quindi è probabile che l'onorevole Salvolino ne abbia fatto uso ne ha fatto uso l'onorevole Andreotta ne hanno fatto uso anche altri ministri che quando sono venuti a Palermo e non c'erano allora le macchine blindate le avevamo solo noi ce le chiedevano e qualche volta ci è stato chiesto tramite se non ricordo male la questura o l'arma dei carabinieri si può che questo sarebbe un fatto occasionale il discorso che riguarda Lima non è sicuramente occasionale anche perché ripeto l'allora coimputato Nino Salvo precisò che in effetti l'autovettura era quella che pur essendo intestata alla Satris era in uso al dottor Cambria e che era da costui prestata saltuariamente a quanto ne sapesse ma quindi non occasionalmente saltuariamente in una certa periodicità indubbiamente c'era per ragioni di sicurezza a Lima questo era se era un discorso che faceva capo alla Satris o se soltanto era una gestione autonoma del dottor Cambria a quanto è a conoscenza dell'imputato o il a proposito del discorso di questa natura io devo dire che su tutta la storia delle gestioni sattoriali in Sicilia c'è una documentazione talmente abbondante in atti e una minaccia incombente da parte della difesa dell'imputato Nino Salvo di arricchirla ulteriormente per cui mi pare che sarà ampio sicuramente oggetto di discussione ognuno interpreterà e valuterà questi documenti secondo il proprio punto di vista ma non mi pare il caso di insistere su questo tema in sé di contestazione però sempre con riferimento a quella vicenda si è parlato stamattina del problema del governo Milazzo di chi lo appoggiava e di chi lo fece cadere e in particolare di una fonte processuale molto giovanile rimasta tale nel tempo beato lui cioè l'onorevole Mannino il quale ha preso dal ragazzo ma ha continuato a conservare la convinzione perché lo ha riferito quando il ragazzo non era più che il governo Milazzo cadde perché il gruppo Cambria Salvo ritirò il suo appoggio a quel governo stesso quindi un governo evidentemente sta in piedi se c'è chi lo appoggia se uno dei puntelli viene meno come ogni cosa di questo mondo il governo cade io desidererei sapere all'imputato se egli è a conoscenza di quanto sul punto ha dichiarato suo cugino Nino e cioè a dire nel verbale di interrogatorio del 19 aprile 1984 sono sicuro di essere vittima di una persecuzione politica e in particolare di essere reo di aver fatto cadere il governo Milazzo che era appoggiato dalla mafia notoriamente io desidero sapere se intanto se l'imputato era a conoscenza di questa dichiarazione del cugino e cosa pensa lui su questo perché la lettura che ne fa il pubblico ministero è intuitivamente una conferma del fatto che Nino Sato ritiene di avere quanto meno cooperato alla cauta di questo governo e che era appoggiato dai mafiosi desidero sapere cosa sul punto pensa l'imputato io questa mattina non ne pensa in sostanza vuole sapere se è a conoscenza di questa dichiarazione questa è una domanda mi pare se non è neanche a conoscenza il discorso è diverso se ne è a conoscenza è che cosa qual è il suo pensiero o le sue conoscenze sugli episodi sulla vicenda ma se risponde a verità quello che ha detto se lei pensa che ha detto io presumo che sia la verità si tratta di vicende che sono estranea alla mia vita perché come ho chiarito io a quell'epoca non mi interessavo di problemi regionali devo dire che questa mattina avevo già chiarito secondo una mia visione che poiché l'accusa il giudice istruttore diceva che Nino Salvo e Salvo ora si riconduce a Nino Salvo ma nella sentenza istruttoria si parla di Salvo fecero cadere il governo Milanzo mi ero chiesto questa mattina come si poteva dire che i Salvo che avevano fatto cadere il governo Milanzo che era che si diceva governo della mafia come mai potevano essere il rapporto di sodalizio o di alleanza con la mafia che secondo la sentenza dell'ufficio istruzione questo governo sosteneva ora mi si chiede se è vero che Nino Salvo contribuì alla caduta del governo Milanzo premesso che sono cose che sfuggono al mio controllo devo dire che Nino Salvo diverse volte dichiarò alla stampa in interviste che gli attribuivano questa azione e che lui era estraneo perché oltretutto non avrebbe avuto né poteri né mezzi né qualità non era deputato per fare cadere il governo Milanzo in quella dichiarazione effettivamente c'è scritto che Nino Salvo accusava era accusato dal partito comunista di avere fatto cadere il governo Milanzo Nino Salvo mi dice e mi fa piacere poterlo chiarire che quella dichiarazione che lui aveva reso purtuttavia non rispondeva a quella che era la sostanza delle cose che era ben diversa cioè che era accusato di aver fatto cadere il governo Milanzo ma che in realtà lui era estraneo a questa vicenda non avendo né mezzi né qualità per poter fare cadere un governo d'altronde abbiamo tutti o io tale rispetto per i governi per le assemblee legislative che mi sembra strano che possano esistere persone che fanno cadere e risorgere i governi è vero che si dice questo di Salvo ma queste sono notizie giornalistiche e ripeto come ho detto questa mattina mutuate dalla diatribbe politiche la verità è per quanto mi riguarda pur tutta via che io sono estraneo a queste vicende perché obiettivamente estraneo perché non ero a Palermo desideriamo introdurre un tema che finora non è stato mai in questo processo affrontato è stato più volte chiesto a parecchi imputati anche da parte di questo pubblico ministero stamattina l'ho fatto invece il presidente di fronte alla negazione di qualsivoglia rapporto con uno dei cosiddetti pentitio collaboratore e al diniego assoluto della verità delle circostanze da cui sono riferite come potessero gli imputati stessi raggiunti da queste accuse spiegare il fatto che queste accuse venivano loro rivolte ripeto questa domanda è stata fatta stamattina dalla corte al presidente a proposito di Tommaso Buscetta all'imputato Ignazio Salvo il deputato Salvo ha dato una sua spiegazione delle ragioni per le quali ingiustamente e non raccontando la verità Tommaso Buscetta abbia avuto un interesse un disegno per cui l'ho accusato adesso io vorrei capovolgere il problema a ricordare perché probabilmente questo passo del processo l'imputato Salvo lo ricorda meno in quanto non è un'accusa a suo carico ma è tutt'altro però esiste agli atti del processo Salvatore Contorno altro pentito che non ha risparmiato le sue accuse a Nino Salvo nei confronti dell'imputato che oggi si è davanti a voi ha detto so che Nino Salvo ha un cugino a nome Ignazio ma non credo di averlo mai incontrato e comunque ignoro se egli sia uomo d'onore allora io vorrei che la stessa domanda venisse rivolta all'imputato col segno contrario come spiega che Contorno non lo accusi questo presupporrebbe che Contorno lo dovrebbe accusare lui dovrebbe spiegare la ragione per cui non lo accusa ci apponiamo in una maniera più netta forse la mia domanda non è stata chiara non voleva essere comunque provocatoria buone buone lasciate parlare poi vi sfogate buone io rinuncio a vederla ma non a capire lei rinuncia rinuncia intanto la prego di non rinunciare al microfono altrimenti il suo è un monologo non diventerà mai un dialogo ammesso che lei voglia che diventi un dialogo non ci vediamo tra l'altro e lo so ma non è colpa mia mi piaceva sentire quello che l'avvocato diceva il concetto di questa domanda la chiarezza non sempre è patrimonio dei pubblici ministeri si vede che purtroppo non rientra nelle mie capacità tu a tutti gli imputati è stato devo dire opportunamente di fronte alla negazione assoluta di circostanze rivolte loro di spiegare però queste accuse ci sono ci dica lei che dice che non sono vere perché queste persone le accusano e tutti gli imputati o molti di essi e tra questi Ignazio Salvo hanno spiegato chi ha detto che sono manovrati dico ripeto non voglio entrare assolutamente nel merito in questa sede purtroppo c'è una lunga requisitura che dovrò fare dove avrò modo di dire le mie idee in materia però dico è soltanto per rendere chiaro il mio pensiero dico finalmente stamattina mi è venuta in mente questa osservazione che credo che abbia una sua conducenza processuale Tommaso Buscetta dice Ignazio Salvo mi accusa perché ha degli obiettivi dei vantaggi ha bisogno di fare anche questo tant'è vero che lo fa tre mesi e mezzo dopo l'inizio del suo interrogatore ma c'è tutta una spiegazione che ha una sua logica non mi si chieda di condividerla naturalmente allora io voglio sapere come mai Contorno che ha gli stessi identici problemi di Buscetta che accusa Nino Salvo senza problemi a lui non lo accusa direi che mi desse egli una spiegazione di questa diversità di condotta tra due situazioni parallele mi consente chiediamo che venga richiamato Contorno perché la domanda deve essere posta a Contorno Contorno ha già risposto e se le orecchie fossero buono deve chiedere a Contorno perché non accusa il dottor Salvo poi dopo vedremo le spiegazioni che tra il dottor Salvo Contorno ha detto che non lo conosce deve venire cortesemente da dove si trova e così gli facciamo questa domanda anche perché veramente ci farebbe comodo averlo a disposizione sempre non mi pare non mi pare che ti debba chiedere a Contorno in sostanza noi chiediamo a lui perché un altro non ha fatto una cosa ma mi sembra una cosa veramente assurda no vorrebbe in sostanza pone le due posizioni avvicino le due posizioni dei due dei due contorno il discorso è di un altro genere il pubblico ministero va cercando attraverso questo sofisma perché tale può essere come le crede di pervenire a un risultato che il signor dottor Ignazio Salvo debba dire che Contorno è attendibile perché avendo per la sua parte scuso la conoscenza per il resto dove accusa è attendibile non è questo la Corte dove domandarla questo risultato primo questo lo sta dicendo lei secondo io non ho detto perché è molto peggio la cosa perché si vuole attraverso questa domanda giungere ad un'altra conclusione questa accusa dico questa fisicamente rappresentata da me non vuole nulla vuole soltanto capire esattamente come stanno le cose in questo processo perché sia chiaro a nessuno credo ma sicuramente a me anche se non dovrò emettere io la sentenza fa piacere sostenere accuse nelle quali non credo io mi debbo persuadere con la mia testa modesta per quanto sia con i limiti delle mie capacità per quelle che sono però per convincermi questo mi pare un argomento per convincermi se c'è cosa c'è dietro questa logica dei pentiti e non soltanto dal punto di vista dell'accusa anche della mancata accusa lei ha fatto un intervento io non sono riuscito a sentirla perché c'erano rumori da parte di altri noi ci opponiamo noi ci opponiamo a questa domanda lei ha fatto delle precisazioni in merito a questa opposizione che volevo ascoltare noi ci opponiamo a questa domanda perché quando diciamo l'accusa vuole ovviamente lo usiamo nel senso retorico in cui il termine viene usato in questo linguaggio giudiziario non abbiamo nessuna intenzione di offendere alcuno noi diciamo semplicemente questo che la domanda è inammissibile nella misura in cui si chiede ad un imputato di dar conto delle ragioni per le quali un altro soggetto non ha agito in un modo conforme a come ha agito altro individuo riteniamo poi che dal punto di vista retorico lo scopo della domanda dell'accusa sia abbastanza evidente e cioè siccome questa mattina il dottor Salvo sosteneva che Buscetta aveva agito in un determinato modo per un tornaconto personale oggi probabilmente uno degli obiettivi che l'accusa vorrebbe tra virgolette raggiungere è di dimostrare questo che se fosse così ovvio che si dice il falso pur di raggiungere determinati obiettivi allora anche Contorno aveva gli stessi interessi e avrebbe dovuto agire alla stessa maniera poiché Contorno così non ha agito e Buscetta ha agito nell'altra maniera Buscetta deve essere considerato credibile ecco le ragioni per le quali a sostegno oltretutto della prima opposizione noi ribadiamo l'opposizione alla nostra domanda perché queste saranno poi considerazioni di requisitoria finale del pubblico ministero il pubblico ministero scioglierà i suoi dubbi ma non può certamente pretendere una collaborazione impossibile da parte del dottor Salvo impossibile ma chi ne sa lui perché Contorno agisce in un modo piuttosto che apposta chiedetelo a Contorno sì il presidente giudicando sull'opposizione ritiene che si tratti più di un'argomentazione anziché di una domanda e non pone la domanda stessa lo precediamo un'argomentazione che potrà essere fatta valere in qualunque momento ovviamente perché io non ho mai fatto chiose agli insuccessi procedurali se c'è mi avrebbe fatto piacere che l'avvocato Seminara e il professor Coppia avessero scelto proprio stamattina una postazione diversa vi siete andati a nascondere dietro la gabbia e non vi vedo e non vi sento temo che mi sfugga quindi qualcosa di importante non credo che bisogna consentirla bravo questa è dialettica processuale bravo professor la ringrazio no qui no non esageriamo un'ultima domanda Presidente e chiedo scusa per avere tanto a lungo annoiato la Corte se c'è un argomento che puntualmente ed insistentemente è venuto fuori nei diversi contatti che questo pubblico ministero alla presenza sempre dell'avvocato Seminara ha avuto con l'imputato Salvo è quello delle famose telefonate non vorrei peccare di presunzione ma credo che le posso citare tutte integralmente a memoria e non me ne compiaggio e allora su questo argomento avevo preparato un paio di nuove domande perché poi è sempre lo stesso discorso che si rimesta non mi persuaderò mai che la verità sia quella che mi ha detto all'imputato e quindi hai tentazione di insisterci per fortuna l'ha fatto la parte civile e così mi ha sollevato da questo problema rimane soltanto una cosa da chiarire ha detto oggi e credo per la prima volta se il mio ricordo è esatto ma ci sono i verbali comunque che lo possono tranquillamente confermare l'imputato che nella famosa telefonata del 24 maggio 81 in cui egli fa uso per la prima volta del nomignolo chiamiamolo così di Giuseppe e che si svolge alle ore 8.04 del mattino se non avesse avuto dice l'imputato questa telefonata ad oggetto la ricerca di notizie sulle sorti di Ignazio Lopresti ce l'avrei chiamato in ufficio domanda risulta all'imputato che l'ingegnere Lopresti era solito alle 8.04 del mattino essere in ufficio la domanda è abbastanza chiara quindi lei può si vede che sono stato chiaro capita non solo ai pubblici ministri può capitare anche agli imputati non lo chiarisco subito ho intesso dire e me ne dispiace di non averlo chiarito che dopo la prima telefonata delle 7.44 in cui Lopresti doveva essere necessariamente a casa se non fosse stato per il motivo di avere notizie del suo arresto l'avrei cercato successivamente in ufficio perché quando la moglie mi dice non è in casa l'avrei cercato in ufficio questo intendevo dire mi dispiace di non averlo chiarito no non lo metto in dubbio mi scusi io ritenevo di aver capito che all'opera 0.04 non era stato chiaro e le chiedo scusa adesso il discorso è chiarito un'ultima cosa quella mattina comunque a quell'orario l'imputato Salvo ha detto che era già a conoscenza dell'avvenuto arresto dell'Opresti dico cosa esatta credo io avrei una domanda da fare precisa che stranamente non è stata fatta nessuno chi lo avvertì di questo arresto e quando? come seppe lei è quando? devo dire che non ricordo più chi mi avvertì ma nell'ambito della famiglia questo fatto si sapeva che avevano arrestato Ignazio Lopeste nell'ambito della famiglia con lei questa voce circolava e sicuramente pervenne alle mie orecchie e se non fosse stato perché Lopeste era stato arrestato non avrei mai detto sono Giuseppe perché fino al giorno a poche ore prima dell'arresto non ero Giuseppe è proprio la prova che io sapevo dell'arresto dell'Opresti diversamente non l'avrei detto perché in quel momento per me il telefono era controllato prima non lo era ma non lo era signor giudice neanche per l'Opresti il quale parlava con Gaeta e parlava di tutto non avevano limiti non si preoccupava per me cioè non si preoccupava per se stesso e si preoccupava per me che senso ha? mi scusi dico questo per seguire quella logica si preoccupava per me e non si preoccupava per se stesso si preoccupava per me e non si preoccupava per suo cugino Nino e soprattutto credo di averlo detto questa mattina non si preoccupava di nascondere i suoi rapporti con Buscetta ma certo perché sapeva di non avere il telefono sotto controllo e quindi perché doveva nascondere il mio nome? e le voglio dare ripetere anche se sono sicuro che lei è stato molto attento questa mattina mi ha ascoltato voglio ripetere che come poteva Gaeta capire infatti il povero Gaeta interrogato dice ma quando mai io non l'ho capito che poteva essere Ignazio Salvo come poteva Gaeta capirlo che ero io e soprattutto ho detto questa mattina come poteva capirlo Buscetta al quale lei che vedo che ha le telefonate li sa a memoria come me però le devo dire al quale Gaeta avrebbe dovuto dire signor Buscetta ho dato il numero a Nino e Giuseppe come poteva capirlo Buscetta aveva avuto questo mannato Gaeta ma poi signor procuratore se se lo presti avesse dovuto dare a me il numero di telefono di Roberto di Buscetta avrebbe dovuto chiamare Gaeta facciamo questo errore lo facciamo tutti a prima vista avrebbe dovuto chiamare il Gaeta la sera del 21 perché è la mattina del 22 che mi deve dare il numero di telefono invece non lo chiama lo chiama dopo due ore dalla mia telefonata e allora aggiungo un'altra ipotesi visto che lei con molta benevolenza mi invita a farlo lo presti chiama Gaeta alle 10 e 30 per avere il numero di telefono di Buscetta allora perché mai alle 7 e 44 a me che lo avevo chiamato dice quella qualche cosa l'avrò la sera se fosse stato il numero di telefono di Buscetta mi avrebbe detto mi chiami più tardi mi chiami fa un'ora mi chiediamo all'ora di pranzo perché doveva dirmi mi chiami la sera se andiamo sul filo della logica non c'è niente qua la verità è una sola signor procuratore che siamo tutti soggestionati in questa vicenda dalle pubblicazioni dei giornali Ignazio Salvo voleva il numero di Buscetta mia moglie si è convinta pure che io volevo il numero di Buscetta fino a quando non ha letto gli altri di questo processo io ritengo di non lasciarmi suggestionare dalla lettura di nessun giornale anche perché devo dire no 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 perché potrebbe capitare sarebbe assolutamente legittimo chissà quanta gente capita meritevolissime persone anche perché da quando lavora questo processo non è che poi ne abbia molto di tempo a dedicare la lettura dei giornali leggo altre cose allora a questo punto mi vedo costretto un attimo di pazienza a leggere il contenuto di questa famosa telefonata che lei esegue nelle prime ore del mattino del 24 maggio 81 chi avrebbe ad oggetto usando l'opseo non Giuseppe una richiesta di notizie sulle sorti di Ignazio Lopresti arrestato ora io desidero e affido alla comprensione di me stesso prima perché ripeto l'ennesima volta che la leggo è della corte soprattutto che è quella che poi più importa se dal contenuto di questa telefonata dico leggiamolo il contenuto non si è mai letto in quest'ala si può mai desumere che il motivo di questa telefonata era una richiesta di notizie sulle sorti giudiziari o meglio di polizia di Ignazio Lopresti Mariella pronto Giuseppe buongiorno Giuseppe sono c'è l'ingegnere no non c'è è uscito sì è uscito mi scusi vuole lasciare detto qualche cosa ecco gli dica che ha telefonato Giuseppe richiamerò all'ora di pranzo grazie va bene buongiorno buongiorno questa avrebbe ad oggetto una richiesta di notizie sulle sorti giudiziarie di Ignazio Lopresti ma non finisce qui perché puntualmente all'ore 15 e 10 così come preannunziato arriva una seconda telefonata Mariella pronto Giuseppe buonasera c'è l'ingegnere Giuseppe sono no guardi non c'è per ora è momentaneamente trattenuto domanda è fuori sede no è trattenuto in questura ho capito va bene grazie prego arrivederli se questa non è evidenza che suggestione ci può essere la suggestione è al contrario per capire che dentro queste telefonate c'è una richiesta di notizie sulle sorti giudiziali di Ignazio Lopresti allora bisogna essere suggestionati per vedercela ma se non si è suggestionati non ci si vede salvo che io purtroppo denunci in questo momento tutti gli enormi limiti delle mie capacità cerebrali scusate è tre anni senta senta il signor no per favore avvocato al microfono altrimenti non viene registrato microfono ma qualsiasi però dicendo avvocato seminara il procuratore della repubblica è passato all'espressione grazie bene buongiorno saltando un rigo dove la mariella corlea dice spessamente in questi tempi e sì ma non so se potrà essere qua comunque dei richiami l'aveva saltato questo l'ho saltato ma non mi pare che sia determinato no ma non l'ho saltato io non ce l'ho nella copia ci mancherebbe altro che lei mi conosce da anni sa che sono capace mai di fare una cosa non ce l'ho la copia se l'avessi avuto avrei letto due volte anzi non una vogliamo formulare la domanda in seguito a questo no no è una contestazione come si può visto il contenuto da quali espressioni ritenere che diciamo possiamo dire questo da questa l'espressione da cui si può desumere che l'oggetto la finalità la mattina io telefono all'opresti perché saputo che è arrestato e ho due scopi da raggiungere quello di non mi far identificare e quello di sapere se l'opresti era in casa per potergli parlare cioè se era rientrato dalla questura e questi scopi dovevo realizzare quindi sono su Giuseppe e mi nasconto e desidero parlare con l'ingegnere l'opresti per sapere se era ritornato dalla questura e quando chiedo è fuori sede perché mi sorse il dubbio che l'ingegnere l'omestio fosse uscito e fosse partito e quindi chiedo ma è fuori sede perché volevo sapere se era tornato dalla questura è facile è semplice il motivo per cui faccio questa telefonata poi signor presidente il Giuseppe della telefonata tra caete e l'opresti che non mi riguarda non sono io questa comunque la domanda verteva su queste frasi e ho cercato di spiegare la spiegazione però io non ci tengo assolutamente a stabilire che sia dico sia chiaro non ci tengo assolutamente il concetto mio tra l'altro è uno che se per caso per avventura supponiamo lei ha fatto un'ipotesi ne faccio una ora io supponiamo che lei si cieli sotto il nome di Giuseppe e si rivolga all'opresti perché in quel determinato momento storico un contatto con Buscetta non era malvagio questo che vuol dire che lei è mafiosa? secondo me no signor presidente nella parte che volevo capisco un determinato momento questo non basta nella parte che volevo di cui volevo dare notizia questa mattina poi per non importunare l'ho accorciato a un certo punto mi ponevo questa domanda retorica che non ho fatto per rispetto alla Corte perché certamente non rientra tra i compiti dell'imputato quello di fare domande retoriche ma io lo ringrazio il dottore l'ha fatta e allora mi si è concesso di farla perché dovrei di nagare che cercavo il numero di telefono di Buscetta oltretutto potrei dire oggi potrei dirlo non lo cercavo per me Buscetta non mi ha mai cercato signor presidente quando Buscetta telefona e parla di Nino non parla mai di Ignazio altra cosa che va valutata perché se Nino e Ignazio sono sostituibili come si dice quando Buscetta sente che Nino non c'è doveva essere naturale dire è Ignazio non l'ha detto ed era ancora più naturale signor giudice che il Lopresti rispondendo a Buscetta che gli chiede di Nino se quel Nino era Nino salvo doveva dire le faccio parlare con Ignazio che è in zede perché io mi incontravo con il Lopresti come si gira gira non ci sto io dentro questo Giuseppe perché bisogna forzare la logica non è signor giudice mi scusi io sono stato un anno e mezzo in carcere mercedo la benevolenza dei giudici e dei servizi che sono agli arresti domiciliari l'avere forzato la logica e avere sbagliato non è un reato possiamo sbagliare tutti ma perché bisogna insistere e continuare per difendere mi scusi sono riguardoso inopportuno una posizione che non risponde ad un criterio logico mi è consentito di fare alcune osservazioni logiche posso continuarle a fare Presidente lei continua rispondendo all'argomentazione del Pubblico Ministero che aveva che aveva posto insomma per esaminare queste telefonate ci sono quelle cose vera io credo signor giudice mi vuole ascoltare le dispiace per esaminare queste telefonate dobbiamo evitare discussioni perché non sono ammissibili l'unica cosa che è ammissibile è questa il Pubblico Ministero ha detto in quale delle frasi che lei ha rivolto alla sua interlocutrice si può vedere compresa quella che ho saltato e che ho saltato e che ho saltato e che lo scusate l'avremmo fatto compresa quella che ha saltato evidentemente in perfetta buona fede mi riconosco mi riconosco in tutte le frasi perché avevo due scopi nascondere la mia identità e sapere se lo presto era ritornato dal carcere qualunque cosa dicevo doveva raggiungere questo scopi basti chiedevo di parlare con lei ha detto poco fa mi è venuto il dubbio che potesse essere partito perché non disse mai partito perché lei non l'ha fatto questa domanda come? ha detto il fuorisede io l'ho detto proprio l'ho detto io non ho il testo davanti potrei anche infatti l'ho chiesto ha detto il fuorisede è fuorisede ah il fuorisede sì perché debbi questo dubbio che per me sarebbe stata una notizia lieta vabbè facciamo in da signor giudice vorrei mi è consentito per un minuto ancora trattare su questa vicenda che ritengo mi abbia tenuto in carcere per un anno e mezzo due sono i punti fermi di questa vicenda io telefono a Lopresti e non sono Giuseppe fino a quando Lopresti non è arrestato dal giorno che è arrestato io sono Giuseppe per chiarire mi scusi se l'entravo lei non è mai Giuseppe con Ignazio Lopresti no a casa Lopresti e Giuseppe con la moglie a casa Lopresti per chiarire sì sì a casa Lopresti non sono Giuseppe ma non è che mi nascondevo dalla moglie io mi nascondevo dal telefono si capisce che sapevo che pensavo fosse intercettato io quindi mai mi sono nascosto prima dell'arresto e questo è un punto fermo quando telefono il 22 altro punto fermo per avere qualche cosa a prescindere da tutte le considerazioni che ho fatto questa mattina sul significato e il valore di qualche cosa e il resto c'è un punto fermo se Lopresti avesse dovuto dare a me il numero di telefono di Bucetta avrebbe dovuto telefonare a Gaeta la sera del 21 perché il 22 mattina avevamo l'appuntamento ma non ha fatto questa telefonata e poi signor giudice se Lopresti sapeva di avere il telefono sotto controllo avrebbe mai chiesto avrebbe mai chiesto il numero di Bucetta se invece Lopresti non lo sapeva come non lo sapeva quando mi avrebbe dato la mattina del 22 il numero di telefono di Bucetta cosa nascondeva? non nascondeva niente invece non me lo doveva dare Lopresti fino a quel momento non aveva niente da nascondere era libero non aveva nessuna preoccupazione di controllo del suo telefono parlava liberamente parlava di Reagan parlava di tutto parlavano anche volgarmente questi due professionisti si immagina se uno sa il telefono controllato e dice certe volgarità e quindi perché per forza bisogna forzare la logica per ridurmi non voglio essere patetico ma per per ridurmi a qualunque costo in catena l'arresto di Ignazio Salvo era un arresto dovuto a questa società questa società doveva godere di questo arresto doveva godere dello spettacolo di Ignazio Salvo ingatenato con le mani dietro la schiena che faceva il giro delle caserne perché la televisione i fotografi lo potessero riprendere e questo spettacolo c'è stato aggiungo di più che dopo il secondo interrogatore interrotto per quello che è detto a verbale perché io stavo male e io non posso sventire questa notizia ma se c'è qualche magistrato qui presente sa che io non stavo male per un anno e mezzo non sono stato più interrogato di tutto quello che c'è in best ordinanza non mi è stato contestato niente io sono in carcere perché Buscetta ha detto che sono uomo d'onore e mi incontravo con lui nella villa devo chiedere al signor pubblico ministerio il galantuomo Buscetta diceva la verità il pregiudicato Salvo diceva le bugie ma non era opportuno cercare il riscontro c'erano il riscontro a portata di mano la moglie e il socio di Buscetta Buscetta ha detto che avevano che avevo conosciuto la sua famiglia perché non sono stati interrogati potevano essere dei galantuomi anche se questo mi sembra molto strano avrebbero potuto dire non lo conosciamo perché non è stato interrogato con la bocca a Don Martellucci non voglio fare accusa a nessuno non facciamo però io non mi meraviglia io prendo l'atto di questa sua ultima affermazione che non vuole fare accusa a nessuno ne prendo l'atto con soddisfazione perché? da quello che lei ha detto prima poteva anche pensare non voglio dire questo che è stato pensato e non sono stato pensato io sul concetto di spettacolo dico le sue considerazioni sue sono e su e rimangono che cosa? sul fatto che il suo arresto era un discorso spettacolare ma non c'entra questa cosa e non c'entra la matriciatura certamente su mandati di cattura dell'autorità giudiziaria tra l'altro richiesti anche dal mio ufficio personalmente ho firmato il suo che lei valo di tutto questo come un'esigenza di carattere spettacolare potrei anche interpretarlo se non rispettassi il suo stato d'animo in maniera profondamente offensiva ripeto non lo faccio perché voglio ricordare le ultime sue parole e soprattutto rispettare il suo stato d'animo ma soltanto per questo in ogni modo io ti chiederei che non si polemizzasse con le sono dole no no non facciamo no no io ho richiamato l'imputato a evitare di polemizzare perché non è la funzione dell'imputato ci sono gli avvocati che possono polemizzare e debbano polemizzare perché è il loro ministero che li porta a questo naturalmente nei limiti della correttezza e non oltre certi limiti perché altrimenti non si è più avvocati certamente come non si è più vorrei chiarire subito quello che ho detto perché non vorrei che il mio stato d'animo no lei ha detto non fosse stato manifestato il mio ministero ha manifestato molta comprensione per quello che lei ha detto io la chiarisco subito io come le caserme io ho parlato delle caserme non parlavo vorrei vorrei forse ma sono stato chiarissimo io parlavo delle caserme e quando parlavo che si voleva che era necessario questo mio arresto parlavo dell'opinione pubblica c'era un'opinione pubblica montata per cui io ho iniziato e purtroppo se lei in sostanza fa dipendere le modalità di esecuzione questa è un altro bar di mani di questo ci doveva io parlavo dello spettacolo che è stato offerto io penso che ci siamo ho sempre fatto il mio dovere non ho nessun problema però mi ha sembrato di cogliere e continuo a sostenere che la penso così perché le parole le udisco perfettamente fino a prova con tre lei mi conosce da diversi anni tra l'altro sa che fino a oggi insomma proprio cretino non me l'ha mai detto nessuno perché avrebbe detto una bugia non per altro quindi se ho capito in una certa maniera il discorso rimane fermo devo dire che lo stato d'animo dell'imputato ha assoluta prevalenza su questa mia intelligenza di quello che lui ha detto per cui ritengo il discorso chiuso sì e lo riteniamo tutti chiuso quindi vediamo se ci sono altre domande l'avvocato Mancuso voleva rivolgere una domanda il numero mi pare che già la cambina 86 sì soltanto per completare questo tentativo di chiarificazione riguardante la telefonata che ha iniziato il pubblico ministero vorrei dire che nella telefonata del 22 giugno 81 fra Ignazio Salvo e Ignazio Lopresti l'imputato Salvo chiama e Ignazio Lopresti non lo riconosce perché l'imputato Salvo non si qualifica non dice il nome come se volesse nasconderlo e allora dice scusami non ti avevo riconosciuto e Salvo che parla Ignazio Lopresti risponde chi e l'imputato Salvo dice hai capito chi sono no a questo punto sarebbe lecita attendersi che dicessi sono Ignazio Salvo invece dice ah il tuo omonimo e omonimi evidentemente Ignazio Lopresti avrei voluto conoscere diecine di Ignazio ora può spiegarci l'imputato perché anziché qualificarsi Ignazio Salvo adotta questi accorgimenti Presidente è una domanda che ho posto e che lei potrà o meno porre però gradirei che rispondesse l'imputato e non ancora una volta il tuo dipendimento io ho il diritto di chiedere di opporti ma non le ascolti la mia opposizione avvocato seminario avvocato seminario ma non di rispondere non di opporsi non di rispondere va bene lei faccia pure il suo intervento avvocato seminario se mi intervento la semplicità è estrema voglio ricordare alla signoria vostra che stamattina proprio la signoria vostra ha posto la domanda e si è avuto una risposta sì no io volevo dire questo in effetti quando l'avvocato Mancusa ha cominciato a parlare io stavo facendo la stessa osservazione che ha fatto lei se non che io questa mattina ho detto semplicemente come mai non ha riconosciuto la sua voce per la domanda dell'avvocato Mancusa a un contenuto più specifico perché dice come mai si è espresso quel tuo omonimo e non dire sono Ignazio quando lo dice omonimo è lo stesso di Ignazio non credo che l'omonimo dell'intin Ignazio Lopresti sia armando non lo so d'altra parte omonimo mi scusi ma è la stessa è un termine più difficile ma è la stessa cosa che se avete reso già io volevo osservare questo che l'imputato chiede prima Ignazio Lopresti hai capito chi sono alla risposta no anziché dire sono Ignazio Salvo dice sono il tuo omonimo ed è l'ecito supporre che Ignazio Lopresti conoscesse più persone che ti chiamavano Ignazio quindi non so perché l'imputato non ti è stato chiaro se ce lo può chiarire ora bene se non ce lo può chiarire bene ugualmente perché non legge dopo Presidente legge sul periodo successivo sì leggiamo 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 subito sì poi quello non ti avevo riconosciuto il cognome ancora non risulta nel periodo successivo non c'è il cognome è un'imputata che io non consente comunque ha risposto l'imputato non ti ha detto perché 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 si è recuperato questo questa circollocuzione anziché dire espressamente sono Ignazio e questo vuole sapere l'avvocato Mancuso ma mi sembra naturale per me dire sono il tuo monomo sono Ignazio è la stessa cosa non so ribadisce questo va bene ancora no ma sarei domande io a difesa mai devo poter fare domande va bene ma la difesa non deve degli imputati non deve protestare quando si fanno domande sono fatte tante domande da parte della difesa degli imputati bisogna vedere se stanno conduce avvocato per favore evitiamo le polemiche sì sì Presidente no no io ho una domanda che affiora dal dibattito da quello che è stato detto poiché era preoccupato che il telefono fosse sotto controllo direi per cui ritenne di doversi qualificare come Giuseppe non Ignazio il tutto per apprendere notizie circa il destino dell'opresti perché non fece telefonare ad altra persona evitando di esporsi ad un rischio Presidente per chi non fece telefonare ad altra persona per sapere notizie dell'opresti cosa abbastanza semplice abbastanza facile cioè invece di esporsi in prima persona con una telefonata che sapeva poteva essere intercettata avrebbe potuto far telefonare da una persona che non lo esponeva non si esponeva perché non lo ha fatto ma come mai non ritenne di rivolgersi a qualche terza persona ora non mi ricordo potrei dire forse perché non sono associato con nessuno perché se fosse un mafioso associato avrebbe preso un'altra persona per farlo telefonare sarebbe stato naturale ma siccome dovevo fare una telefonata la dovevo fare io l'ho fatto io vabbè forse abbiamo chiuso le domande perché si assume che non bisogna mai fare fare telefonata ad altri perché significa essere mafioso bisogna fare sempre personalmente come non ho chiuso comunque non non mai fare telefonata ad altri perché si potrebbe essere mafioso se fa personalmente una possiamo chiudere questo interrogatorio possiamo chiudere anche perché è imputato è stanco perché è da stamattina che viene interrogato allora ti interroghiamo San Giorgio così liberiamo l'avvocato professore Coppi Presidente per cortesia vorrei informarla che nell'intervallo vi sono procurato con l'interrogatorio Dan Girolamo che evidentemente avevo lo studio volevo chiedere alla corte se ritiro opportuno acquisirlo in questa sede dopo averne preso visione pubblico ministero in funzione di quelle circostanze che la signora vostra stamattina ebbe a chiedere al Salvo Ignazio vuole esaminarlo? si me lo ce lo fa vedere